Benissimo, iniziamo. Vi do il benvenuto all'appuntamento di oggi dell'edizione Centro-Sud della Unit 2 dedicata alla formazione specialistica dei RUP nell'ambito della PNRR Academy, annualità 2023-2024. Questa edizione si concluderà il giorno 25 marzo e al termine del percorso avrete la possibilità di ottenere l'attestato di partecipazione. Se non doveste riuscire a seguire i webinar in diretta, potrete seguirli anche in modalità asincrona e avere comunque la possibilità di riceverli attestato, ma non oltre il 30 aprile 2024. Vi lascio le solite indicazioni operative, soprattutto per chi ci stesse seguendo per la prima volta. Durante il webinar vi consigliamo di non uscire dalla schermata della lezione in corso per aprire altre pagine, altrimenti il tempo non viene più conteggiato. A quel punto perderete il conteggio del webinar odierno. Faremo una piccola pausa verso la metà della lezione e vi consigliamo di non abbandonare l'aula durante la pausa per evitare problemi nel riconnettervi. Come sempre, nel corso del webinar avrete la possibilità di porre le vostre domande all'interno dell'apposito box e al termine del webinar ci riserveremo gli ultimi minuti per cercare di rispondere ai vostri quesiti. Infine vi ricordo che i materiali, registrazione e slide di oggi saranno disponibili già da domani sulla piattaforma dedicata. Titolo del webinar di oggi, il Green Public Procurement e i criteri ambientali minimi. Qui con noi abbiamo il dottor Silvano Falocco, direttore della Fondazione Ecosistemi, e la dottoressa Dana Vocino, responsabile progetti della Fondazione Ecosistemi. Do il benvenuto a voi e per iniziare passo immediatamente la parola al dottor Silvano Falocco. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. La sessione formativa di oggi è sul Green Public Procurement, che è uno strumento di politica ambientale ben conosciuto in Italia perché introdotto come obbligatorio dal 2016 e lo strumento attuativo del Green Public Procurement che assume la forma dei criteri ambientali minimi introdotti dall'articolo prima 34, poi 57 del codice dei contratti. Ma andando a vedere qual è l'oggetto del seminario, quello di oggi e quello di domani, oggi faremo un'introduzione al GPP e andremo a vedere come la struttura del codice dei contratti che prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi e anche dei criteri sociali, a dire la verità, all'interno dei capitolati di gara, dei documenti di gara, mentre poi domani vedremo il piano di azione nazionale del GPP e la tassonomia. Per rimanere ad oggi, la prima parte è tutta dedicata all'introduzione al Green Public Procurement. Quando parliamo di Green Public Procurement abbiamo una definizione che è consolidata a livello europeo e che deriva dalle stesse comunicazioni europee. È una definizione non formalizzata in un regolamento o in una direttiva, ma è formalizzata e assunta come la definizione comunemente adottata del GPP nelle comunicazioni che riguardano come integrare le questioni ambientali e sociali all'interno degli appalti. Anzi, noi diciamo come migliorare gli appalti pubblici introducendo dei criteri ambientali e sociali. Quindi questo è un po' l'elemento sostanziale dall'origine di questa definizione, ma andiamo a vederla perché la definizione dice che il Green Public Procurement è un approccio, cioè un modo di vedere gli appalti pubblici sulla base del quale le pubbliche amministrazioni integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, che sono anche queste molto codificate, al fine di incoraggiare tecnologie ambientali e prodotti con preferibilità ambientale e sociale che assicurino un ridotto impatto sull'ambiente lungo tutto il ciclo di vita dei beni, dei servizi o delle opere che si vanno acquistando oppure che si vanno realizzando appunto nel caso delle opere. Andiamo a vedere ogni singolo aspetto di questa definizione perché è molto importante per capire di cosa parliamo quando parliamo di GPP. I cinque aspetti sono proprio gli elementi chiave del Green Public Procurement, ovvero qual è il perimetro di applicazione del Green Public Procurement, il secondo è quali sono le fasi del processo di acquisto che noi andiamo a integrare attraverso dei criteri ambientali e o sociali, il terzo è proprio relativo ai criteri, di quali criteri parliamo quando parliamo di un processo di integrazione di altri aspetti oltre quelli puramente economici, che sono quelli che caratterizzano gli appalti pubblici da sempre, ovvero comprare il meglio al minor costo possibile. Ecco, in questo medio oggi dobbiamo contemplare anche le questioni ambientali e sociali e forse anche le questioni relative alla salute nel prossimo futuro. Il quarto aspetto è quali sono gli impatti ambientali a cui facciamo riferimento, ovvero quali sono quegli impatti che andiamo a ridurre e andremo a vedere di cosa parliamo. L'ultimo aspetto è l'approccio del ciclo di vita, quindi fare in modo che questi aspetti ambientali si riducano non solo nella fase della produzione del bene che noi stiamo acquistando, ma in tutte le fasi che vanno dalla estrazione delle materie prime fino al trattamento post-consumo fine vita del prodotto, quando il prodotto finisce la sua vita utile. Andiamo a vedere ognuno di questi cinque aspetti per capire meglio di cosa stiamo parlando. Il primo è il perimetro di applicazione, il perimetro di applicazione che è largo, riguarda in Italia all'incirca 46.000 soggetti, poco più di 46.000 soggetti, ma all'interno di questi soggetti possiamo individuare tre differenti, come fossero degli anelli concentrici che uno contiene l'altro, dove l'anello più stretto, cioè il cuore del GPP, riguarda sicuramente le pubbliche amministrazioni, cioè quei 10.107 soggetti che in Italia compongono il complesso delle pubbliche amministrazioni centrali, dai ministeri, gli organi costituzionali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi economici, le autorità amministrative indipendenti, gli enti e le istituzioni di ricerca, tutte le amministrazioni locali, regioni, province, città metropolitane, ASL, aziende ospedaliere, consorzi di bacino e così via, le aree protette, ovviamente, regioni, province, città metropolitane, comuni, sono il cuore essenziale di questo GPP, e gli enti nazionali di previdenza e assistenza. Quindi diciamo che all'interno di questo complesso, il cuore pulsante di questo complesso, riguarda appunto le pubbliche amministrazioni in senso stretto. A queste dovremmo aggiungere le scuole pubbliche, che sono in Italia all'incirca 32.000, che anche queste devono applicare i criteri ambientali, e questo significa tanti soggetti, anche se ognuno di questi soggetti non muove una quantità di risorse economiche particolarmente rilevante, cioè ogni singola scuola fa pochi acquisti, insomma, se parliamo del rispetto ai 230 miliardi rotti che vedremo essere il totale della spesa per appalti pubblici in Italia. Però il secondo nucleo che deve applicare il GPP è quello delle scuole pubbliche, quindi il secondo cerchio è quello delle scuole pubbliche, il terzo è quello delle imprese partecipate al controllo pubblico che per le attività core deve, cioè quelle, le principali svolte da quel soggetto devono attuare quando esistono, devono adottare quando esistono i criteri ambientali minimi. Quindi il perimero di applicazione è ampio, questo ovviamente ha delle implicazioni, un perimetro di applicazione ampio significa una grande necessità di formazione, informazione, accompagnamento di tutti questi enti al cambiamento, alla trasformazione per tener conto dei criteri ambientali. Le fasi del processo di acquisto sono cinque e anche qua ci dobbiamo ricordare di cosa stiamo parlando, chi ce lo ricorda? Ce lo ricorda il manuale europeo acquistare verde che riprendendo le cinque fasi definite dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea dice che noi possiamo integrare i criteri ambientali quando definiamo l'oggetto dell'appalto, quando redigiamo delle specifiche tecniche, quando individuiamo la modalità di selezione dei fornitori, quindi potremmo inserire o no dei criteri che riguardano la qualità soggettiva dei fornitori, quindi ad esempio il possesso di un sistema di gestione ambientale, ovviamente tutte le individuazioni di modalità di selezione dei fornitori, quando adottano dei criteri sono anche fortemente selettive perché chi ha quei criteri può partecipare, chi non li ha non li può partecipare. I criteri di aggiudicazione dell'appalto, come vedremo più tardi con Dana Bocino, si tratta di criteri che prevedono essenzialmente le due grandi modalità, cioè l'offerta economicamente più vantaggiosa, che è la modalità preferita dal codice e che è soprattutto la modalità attraverso la quale posso integrare dei criteri ambientali e sociali, ma ci sono previsti dai criteri di aggiudicazione anche l'offerta a prezzo più basso. Quinto, la redazione delle clausole contrattuali, in questo caso quando noi redigiamo delle clausole contrattuali, ovviamente tra queste clausole contrattuali possiamo inserire anche di integrare dei criteri ambientali e sociali. Quando parliamo dell'impatto ambientale che dobbiamo ridurre, di quale impatto parliamo? Ma su questo l'attuale piano di azione nazionale sul GPP ha messo in rilievo soprattutto tra gli aspetti quali obiettivi principali dello strumento del Green Public Procurement, ovvero le emissioni di gas e clima alteranti, possiamo far riferimento al principale dei gas R, ovvero la CO2, quindi ridurre le emissioni di CO2, poi rafforzare l'economia circolare, questo significa ridurre la produzione dei rifiuti, ma anche il consumo di materie, il terzo appunto ridurre le emissioni inquinanti in acqua, aria, suolo, questi tre aspetti sembrano essere gli impatti ambientali principali che almeno il PAN sul GPP prevede essere rilevanti ai fini appunto dell'adozione dei criteri. Adotto quei criteri che mi permettono maggiormente di raggiungere questi obiettivi ambientali, ma occorre considerare che la tassonomia ambientale ha individuato, e vedremo in queste giornate cosa significa appunto la tassonomia ambientale, ma il documento sulla finanza sostenibile dell'852 del 2020, ha individuato e che ha costruito quella che noi chiamiamo tassonomia ambientale per brevità, ha individuato i sei obiettivi ambientali che sono i principali nella nostra azione economica, cioè quali sono i principali obiettivi ambientali quando io devo guardare a un'attività economica oppure un'attività d'acquisto, sono questi sei medicazione climatica e adattamento climatico, risorse idriche, cioè la corretta gestione delle risorse idriche, l'inquinamento in acqua e aria suolo, l'economia circolare e la tutela della biodiversità. Come vedete c'è una certa sovrapposizione tra aspetti climatici, l'inquinamento in acqua e aria suolo, l'economia circolare, come si diceva, che sono stati individuati dal piano di azione nazionale del GPP del 2023 come gli obiettivi principali per il GPP, questo a dire che noi abbiamo costruito una matrice molto chiara per capire quali devono essere quegli obiettivi ambientali che io devo andare a migliorare e su questo non abbiamo più neanche una perplessità. Poi abbiamo detto che facciamo riferimento all'intero ciclo di vita, cioè che questi criteri ambientali devono far riferimento, devono garantire una rivoluzione di impatti ambientali, ma lungo tutto il ciclo di vita, cioè non focalizzarci solo sugli aspetti relativi alla fase di produzione di un bene, però essere attenti all'estrazione, il trasporto dei materiali, il trasporto di tutte le componenti dei materiali, il trasporto del prodotto finito fino ai luoghi di consumo, poi il trattamento, il consumo, l'uso, e poi il trattamento del prodotto nella fase di post-consumo. Quindi dobbiamo introdurre dei criteri che permettano di ridurre gli impatti ambientali in tutte le fasi del ciclo di vita. E questo è un elemento essenziale, l'approccio del ciclo di vita, perché è un approccio che adotta sempre l'Unione Europea quando vuol parlare di ambiente, delle questioni ambientali. Siamo interessati a ridurre gli impatti ambientali in tutte le fasi in cui questi vengono generati. Quindi non abbiamo un approccio solo locale ai problemi ambientali. L'analisi del ciclo di vita di fatto è come se noi avessimo per ognuno degli aspetti ambientali che voi trovate espressi a sinistra una descrizione quantitativa di questi aspetti ambientali per ognuna delle fasi del ciclo di vita di un bene e quindi quest'analisi del ciclo di vita ci potrebbe permettere di capire in quale fase dobbiamo intervenire per ridurre gli aspetti ambientali complessivi. Questo è rilevante proprio nella fase di definizione dei criteri. Definisco criteri in modo tale che vengano ridotti maggiormente gli impatti ambientali. Ma quando parliamo di appalti pubblici di cosa parliamo? Ecco, la relazione annuale dell'ANAC quella del 2023 ovviamente abbiamo l'ultima che abbiamo a disposizione e questa la prossima sarà tra giugno e luglio per avere i dati del 2023 ci dice che nel 2022 noi abbiamo avuto appalti pubblici per 233 miliardi. Questo che cosa significa? Significa che l'ammontare ipotetico ovviamente perché non per ognuno degli appalti pubblici abbiamo per ognuna delle categorie merceologiche acquistate con gli appalti pubblici abbiamo dei criteri ambientali però l'ammontare ipotetico delle politiche di green public procurement è proprio 233 miliardi e questo è un elemento sostanziale per capire la potenza del del GPP questo è un elemento chiave per capire quanto il GPP è potente nel orientare l'economia poi possiamo vedere che questi 233 miliardi sono suddivisi tra forniture lavori e servizi appunto 32% di forniture circa per i lavori circa il 28% e servizi quasi il 40% che sono la componente principale appunto degli appalti pubblici ovviamente occorre ricordare che nell'ammontare stabilito dall'ANAC non viene incluso tutto l'insieme di quegli appalti che singolarmente ammontano sono inferiore ai 40 mila euro cioè per tutti quegli appalti inferiore ai 40 mila euro quegli appalti inferiore ai 40 mila euro non vengono conteggiati in questi 233 miliardi che significa che questo ammontare è ovviamente per definizione sottodimensionato se lo strumento degli appalti è così importante però è evidente che lo strumento del GPP è chiave perché aiuta a introdurre a orientare l'economia e quindi a raggiungere altri obiettivi strategici di carattere ambientale e sociale qui attraverso gli appalti pubblici possono essere possono rafforzare l'intenzione del policy maker a definire quali devono essere i valori i principi generali gli obiettivi che noi abbiamo davanti e che vogliamo perseguire non solo di tipo economico ovvero ridurre il costo ridurre la spesa per le prestazioni che vengono acquistate ma anche quello di orientare l'economia in una direzione che noi pensiamo essere auspicabile ma il GPP è uno strumento che fa anche bene all'economia europea fa bene perché in questo momento l'equefficienza dell'economia europea è ancora molto più alta di quella delle altre aree regionali insomma in senso altre aree del mondo che possono entrare in competizione con l'Europa cioè le imprese europee sono maggiormente eco-efficienti questo significa che se io utilizzassi lo strumento dell'integrazione dei criteri ambientali e sociali all'interno degli appalti favorirei indirettamente quelle imprese che posseggono questi criteri e che sono maggiormente imprese europee quindi introdurre dei criteri ambientali e sociali all'interno degli appalti favorisce indirettamente l'impresa europea e l'economia europea quindi mette assieme gli diciamo gli obiettivi economici con gli obiettivi ambientali quelli che dicevamo essere di decarbonizzazione economia circolare tutela della biodiversità che sono elementi chiave delle politiche europee quindi queste politiche le troveremo sempre all'interno come obiettivi ambientali da perseguire all'interno delle politiche per gli appalti quindi possiamo dire che da una parte riusciamo a garantire attraverso l'introduzione dei criteri il raggiungimento degli obiettivi ambientali che ci stiamo prefiggendo dall'altra attraverso questa introduzione riusciamo a favorire eh quell'economia e quelle imprese che eh nel corso degli anni hanno adottato dei criteri ambientali e sociali e che sono maggiormente europee rispetto alle alle altre ehm diciamo alle altre ehm alle altre tipo di imprese cioè abbiamo più imprese europee rispetto a imprese delle altre parti del mondo che hanno questi criteri è questa la ragione per cui nelle politiche eh europee eh è stata data in modo eh assolutamente inequivoco una forte spinta all'adozione del Green Public Procurement quindi mh un uno strumento eh che l'Europa ha promosso fin dall'inizio proprio perché è uno strumento che permette noi oggi diremo win-win cioè permette di raggiungere obiettivi ambientali ma anche sociali e favorisce l'impresa e l'economia europea mettendo assieme questi due eh aspetti questo ha portato nel corso degli anni l'Unione Europea a introdurre il GPP ovunque ovunque quando voi leggete un documento eh europeo importante in materia di mh politiche economiche ambientali eh capite che eh il l'elemento chiave appunto è proprio il eh questo fattore quello eh diciamo della diffusione del GPP perché la il GPP ehm è lo strumento chiave di tutto l'assetto delle politiche europee e vedete ehm che nel corso degli anni i documenti europei eh da 2011 eh da 2001 in poi hanno avuto eh una spinta a introdurre questi sono tutti quei eh documenti eh dove c'è un riferimento al GPP e al eh ai criteri ambientali minimi eh vedete quanti sono cioè nel corso degli anni sono un'enormità questi documenti questo significa che eh l'Unione europea ha una spinta costante eh eh ehm e quindi questo è un elemento chiave eccolo qua ehm sappiatelo insomma perché è un elemento ehm assolutamente chiave del ehm diciamo delle eh delle politiche europee vedete che qua arriviamo ehm fino al 2023 cioè se voi aprite il documento i documenti l'ultimo sul greenwashing approvato qualche giorno fa mh che si era pubblicato qualche giorno fa ehm trovate scritto ehm trovate un riferimento appunto al GPP come se il GPP fosse il principale eh di questi ehm di questi strumenti per adottare le politiche e per questa ragione noi andiamo a vedere quali sono alcuni documenti chiave che nel corso degli anni hanno dato la spinta ehm al Green Public Procurement vediamo un po' quali sono per andare a vedere perché in che modo le politiche europee ci sono ehm diciamo si sono concentrate su questo strumento il primo dei documenti chiave è eh la comunicazione 274 la prima non andiamo ovviamente con ehm ad approfondire ogni singolo eh ogni singolo documento ma vediamo solo da dove nascono per che cos'è che ci dicono cioè gli aspetti principali questo documento il primo eh mi eh guarda solo mi dice solo se è possibile o no integrare criteri ambientali e sociali all'interno delle eh diciamo degli all'interno dei eh degli appalti pubblici quindi eh la domanda che questo documento a cui questo documento vuole rispondere posso integrare i criteri ambientali e sociali all'interno del sistema degli appalti senza che venga distorta la concorrenza la risposta è sì ma a certe condizioni le condizioni sono quelle che è inutile approfondirle perché sono quelle che poi vedremo all'interno delle direttive europee e che vedremo poi nella normativa relativa agli appalti pubblici ma è fin dal 2001 che l'Unione Europea si è posta la domanda non è che se introduco i criteri ambientali e sociali distorco la concorrenza la risposta è no lo puoi fare a certe condizioni però e quindi le direttive a partire da quelle del 2004 eh e poi quelle del 2014 e poi le normative nazionali sono proprio a definire le condizioni che mi permettono di introdurre i criteri ambientali e sociali che è preferibile introdurre per orientare l'economia proprio nella direzione di quell'economia win-win dove da una parte si ottengono dei risultati ambientali dall'altra si ottengono dei risultati economici il secondo dei documenti è importante perché è quello relativo alla comunicazione europea 302 del 2003 perché in quel documento si dice che tutti i paesi membri devono dotarsi di un piano di azione nazionale per il GPP in modo tale ogni paese membro si deve dotare di questo piano di azione per il GPP e quindi ognuno dei paesi deve comunicare alla commissione se ha adottato o no uno strumento di questo tipo proprio a conferma del fatto che ogni paese membro deve dotarsi di normative che vanno nella direzione dell'adozione dei criteri ambientali e sociali all'interno degli appalti pubblici il terzo documento invece è stato un documento molto importante viene normalmente diciamo considerato è stato pubblicato per la prima volta nel 2004 viene considerato uno strumento volto a facilitare l'adozione del Green Public Procurement da parte dei paesi membri è un manuale che viene chiamato acquistare verde Bying Green che è arrivato ormai alla terza edizione la quarta si sta redigendo e forse verrà pubblicata nel corso dell'anno è un manuale che mette a disposizione di tutte le autorità pubbliche le migliori esperienze la soluzione dei principali dubbi in materia di politica del GPP in modo tale da convincere tutti i paesi membri che questa politica è non solo auspicabile ma anche tecnicamente praticabile senza nessun rischio altro documento importante vedete come nella comunicazione 400 del 2008 si chiami proprio appalti pubblici per un ambiente migliore che è un documento che vuol orientare la commissione a rafforzare l'utilizzo del GPP come strumento politico come strumento di innovazione dell'ecologica dell'economia e anche uno strumento che va nella direzione appunto del miglioramento ambientale e anche uno strumento di ve lo dico perché è molto interessante poi nei documenti relativi al Green Deal come strumento diplomatico cioè noi rafforziamo economie europee a basso impatto ambientale che utilizzano tecnologie verdi tecnologie green quindi prodotti ecologicamente orientati e quindi quando abbiamo delle dei rapporti con i paesi del sud del mondo possiamo fornire prodotti servizi e tecnologia a ridotto impatto ambientale quindi non chiediamo agli altri di fare il lavoro sporco per noi almeno questo è nelle intenzioni della comunicazione la comunicazione della 572 del 2017 sempre per andare nella indicazione degli appalti pubblici per un ambiente migliore ad esempio quando ci dice che occorre per migliorare l'utilizzo degli appalti pubblici nella direzione auspicata occorre garantire un'ampia diffusione degli appalti pubblici strategici questa dicitura appalti pubblici strategici sta per quegli appalti che integrano dei criteri ambientali e sociali all'interno delle proprie procedure di gara quindi la comunicazione 572 ci dice che per avere un uso più efficiente degli appalti occorre garantire un'ampia diffusione e quindi significa appunto introdurre i criteri ambientali e sociali degli appalti pubblici strategici e per questo è anche ad esempio è necessario professionalizzare gli acquirenti pubblici cioè accompagnare con la formazione e l'informazione gli acquirenti pubblici in questo processo di diffusione degli appalti pubblici strategici il che significa vedere l'acquisto di beni servizi la realizzazione delle opere non solo sul lato economico o tecnico prestazionale ma anche sul lato ambientale e sociale altro documento chiave è la strategia europea che è quella che ha definito la grammatica che noi utilizziamo frequentemente quando pensiamo al tema appunto dell'Europa ovvero un'Europa inclusiva un'Europa intelligente e un'Europa sostenibile all'interno di questa di questa tabella di marcia per un'Europa per un'Europa che vada nella direzione della strategia europea 2020 abbiamo definito appunto dei punti degli step per un uso efficiente nell'impiego delle risorse ecco ebbene in quella tabella di marcia per l'uso efficiente delle risorse si fa riferimento alla necessità di rendere più rigorose le prescrizioni relative agli appalti pubblici verdi che sono un elemento chiave tra i documenti chiave va anche ricordato quello relativo ai criteri sociali perché i criteri sociali sono accompagnati accompagnano sempre gli aspetti ambientali quindi noi dovremmo parlare più ragionevolmente più propriamente di appalti pubblici sostenibili quindi di SPP sustainable public procurement ma in ogni caso è una questione di decidure e noi sappiamo che in questo momento quando parliamo di acquisti pubblici verdi oppure di green public procurement in verità stiamo adottando parliamo anche di criteri sociali quali sono questi criteri sociali sono quelli indicati abbastanza chiaramente nel documento acquisti sociali e quindi buying social della commissione europea che ci dice come introdurre dei criteri garantire dei diritti promuovere delle condizioni di lavoro dignitoso avere una progettazione adeguata per tutti che preveda l'utilizzo da parte di tutti a prescindere dalle loro condizioni di abilità dei beni e dei servizi che sto acquistando oppure avere l'inclusione sociale fornire opportunità di lavoro per giovani e lavoratori più anziani rispettare la parità di genere sono tutte questioni che attraverso dei criteri sociali possono essere introdotte all'interno del sistema degli appalti altro documento chiave realmente chiave per il Green Public Procurement è la comunicazione della commissione relativa al Green Deal dove all'interno del primo dei documenti del documento principale e di tutti quelli che vengono dopo però fin dall'inizio fin dal documento 640 del dicembre del 2019 fin da quel documento si è sempre fatto riferimento alla necessità per arrivare a raggiungere gli obiettivi ambientali e per promuovere le azioni che sono necessarie ad arrivare a raggiungere quegli obiettivi ambientali si è sempre fatto riferimento alla necessità di utilizzare lo strumento del Green Public Procurement e questo lo facciamo fin dall'inizio quindi Green Deal europeo e Green Public Procurement sono strettamente correlati perché il GPP è uno strumento che permette di raggiungere le altre politiche è uno strumento da questo punto di vista ZELIG cioè è uno strumento che si conforma alle diverse esigenze delle politiche ambientali e delle politiche economiche quindi uno strumento considerato molto utile quando noi abbiamo iniziato a dire dobbiamo costruire un una diciamo in modo anche un po' pomposo però un piano industriale e quindi industriale stiamo parlando di industria della qualità della reindustrializzazione un piano industriale del Green Deal abbiamo fatto per l'era a emissioni zero nette cioè abbiamo detto dobbiamo andare nella direzione della drastica del drastico abbattimento delle emissioni soprattutto di gas clima alteranti ecco proprio in quella in quel momento abbiamo detto che lo strumento principale lo vedete all'interno di questa vedete che è un virgolettato e tutti quelli che vediamo non sono opinioni personali ma sono dichiarazioni che la commissione ha fatto nella direzione della promozione del GPP per costruire un piano industriale e quindi un'era a zero emissioni nette un'era industriale ecco e questo è un po' pomposo l'era industriale a zero emissioni nette basata sulla sostenibilità e la circolarità lo strumento degli appalti pubblici e quindi dell'adozione dei criteri ambientali e sociali è uno strumento decisivo quindi qua ogni volta che noi troviamo dei documenti che fanno riferimento come matrice originaria al Green Deal europeo ogni volta che facciamo riferimento a questo Green Deal europeo in quel momento abbiamo e quindi con documenti ad hoc il piano di investimenti per un'Europa sostenibile vedremo gli altri documenti vedete che ogni volta quel documento ribadisce quello che noi già sappiamo ovvero che occorre andare nella direzione del GPP il principale di questi documenti quello relativo appunto il primo di questi documenti del Green Deal che è del gennaio del 2020 quello sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile ci dice addirittura e ci indica proprio la strada dice che noi dobbiamo avere da una parte una definizione comune sugli acquisti è quella di cui abbiamo parlato all'inizio adottare formalmente una definizione che in questo momento è solo informale dargli una valenza giuridica e renderla comune in tutta Europa la seconda è stabilire dei criteri di obbligatorietà minima e quindi cioè dire che il GPP deve essere obbligatorio e stabilire dei criteri diciamo di minimo per il GPP terzo ovviamente è l'elemento sostanziale quello di adottare il costo del ciclo di vita che è un approccio che abbiamo visto diciamo chiave nel GPP quindi adottare le metodologie basate sul GPP sul ciclo di vita perché sono metodologie che devono essere stese a tutti gli appalti pubblici quando definiamo quando definiamo in un altro strumento del Green Procurement definiamo le questioni relative alla strategia industriale europea vediamo che questi documenti sulla strategia industriale europea tutti fanno riferimento al GPP qua si dice appunto che per definire una strategia industriale in Europa occorre fare riferimento all'adozione di criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici e quindi è un elemento chiave di questa strategia ma quando noi abbiamo detto guardate che dobbiamo definire una strategia per la biodiversità e quindi aver definito una diciamo un modo attraverso la quale l'Unione Europea si fa carico di azioni di interventi che vanno nella direzione della tutela della biodiversità ad esempio abbiamo detto che uno degli strumenti che abbiamo a disposizione è non solo il GPP e va bene ma abbiamo fatto riferimento per quel che riguarda ad esempio l'agricoltura biologica che uno degli strumenti è l'adozione di criteri ambientali all'interno della ristorazione collettiva per stimolare domanda offerta dei prodotti biologici e quindi come facciamo a aumentare domanda offerta dei prodotti biologici introducendo dei criteri ambientali nella ristorazione collettiva e nelle mense mense degli uffici le mense scolastiche le mense universitarie le mense ospedaliere e così via quando abbiamo stabilito costruito il documento una strategia dal produttore al consumatore per il sistema alimentare equo sano e rispettoso dell'ambiente abbiamo detto la commissione europea ha detto che in questa strategia questa strategia deve determinare stabilire per essere efficace dei criteri minimi obbligatori per gli appalti sostenibili nel settore alimentare quindi per aiutare città regioni e autorità pubbliche ad andare nella direzione della preferibilità per alimenti e cibi sostenibili occorre appunto introdurre dei criteri ambientali all'interno della ristorazione dei contratti di ristorazione delle proprie menze ancora una volta sia per quel che riguarda la biodiversità sia per quel che riguarda appunto la strategia le strategie alimentari e le strategie agricole lo strumento del GPP è uno strumento considerato fondamentale ma se voi andate a vedere l'attuale documento su cui noi stiamo discutendo relativo all'ecodesign ecco su tutto l'ecodesign c'è appunto un articolo l'articolo 58 ma tutto l'ecodesign è informato dalla necessità di procedere all'adozione di criteri ambientali e sociali ovvero devo introdurre dei criteri ambientali e sociali perché questi criteri ambientali mi permettono di favorire l'ecodesign cioè se io richiedo l'ecodesign ovvero la progettazione ecologica dei beni e dei servizi ad esempio fare in modo che un bene venga realizzato per essere riciclabile per essere disassemblabile per ridurre gli imballaggi cioè per andare nella direzione dell'ecodesign ridurre magari l'uso di materiali tossici e così via o che sono candidati nelle liste per cui nei prossimi anni verranno considerati magari ad alta tossicità ma c'è un processo lungo ecco in tutti questi elementi qua chiave è il ruolo del Green Public Procurement ma anche quando parliamo di materie prime critiche considerate che questo elemento è un elemento tra i più complicati quelli che fa diciamo non far dormire la notte molti legislatori ovvero quello di individuare il modo in cui l'Unione Europea che sta puntando tutto sull'economia digitale e l'economia sostenibile ad un certo punto diciamo l'Europa non si trovi ad avere necessità di materie prime critiche sono quelle quelle terre rare o minerali rari che sono necessarie per realizzare quelle attività allora si dice che si possono utilizzare degli incentivi come gli appalti pubblici per favorire il recupero di quelle terre rare di quelle materie critiche che sono presenti all'interno dei prodotti particolarmente quelli dell'elettronica quindi potrà inserire dei criteri ambientali all'interno del GPP che prevedono ad esempio che incentivino chi realizza dei prodotti a recuperare le materie prime critiche perché altrimenti in Europa che non abbiamo materie prime critiche non siamo luoghi di estrazione di queste materie ci troveremo tra qualche anno non è la necessità di importare queste materie da chi ne dispone quindi aumentare il tasso di riciclo ecco di queste materie io ve le ho indicate per capire di cosa parliamo le 35 materie prime critiche individuate dall'Unione Europea sono di questo tipo ma ce ne sono 16 che sono considerate strategiche perché entrano in tutti i prodotti che sono fortemente diciamo sono prodotti pivo per lo sviluppo futuro quindi prodotti senza i quali non ci sarà lo sviluppo futuro queste 16 materie prime critiche magari potremmo iniziare ad introdurre dei criteri relativi alla recuperabilità di queste materie prime critiche nei prodotti ad esempio dell'elettronica che acquistiamo perché domani il nostro futuro dipenderà dalla disponibilità di queste materie ovviamente ma questo ne parleremo soprattutto in seguito anche la finanza sostenibile che è uno dei documenti chiave dell'Unione Europea ha stabilito appunto che un forte innesso tra gli obiettivi ambientali l'ha il principio generale che è quello che viene definito D-N-S-H ovvero D-N-O significa antarmo ovvero tutti acquisti di beni e servizi che non arreglano un danno significativo all'ambiente ecco in tutti questi casi quando si è fatto riferimento all'approccio del D-N-S-H questo approccio D-N-S-H si è molto legato al GPP e ai criteri ambientali minimi e vedrete che stiamo davanti ad una convergenza da dove è nata l'esigenza di avere un documento sulla finanza sostenibile ecco che l'Unione Europea nel 2020 appunto nelle politiche del Green Deal ha diciamo ribadito la necessità ha ribadito la necessità di adottare dei criteri che vengono chiamati criteri di valio tecnico per stabilire quali siano quegli investimenti in attività economiche che possono favorire diciamo l'ambiente cioè nel senso possono non impattare non impattano molto nell'ambiente cioè se tu rispetti quei criteri non impatti molto sull'ambiente questo l'ha fatto perché è convinta l'Europa che avere dei diciamo investimenti in attività che non impattano in modo significativo sull'ambiente riduca anche il rischio economico di questi investimenti quindi l'Unione Europea dice siccome il rischio economico legato ad esempio al cambiamento climatico è molto forte io per ridurre il rischio economico legato agli aspetti climatici ad esempio sono attento voglio sapere se un determinato investimento ad esempio in quale modo questo investimento non corre dei rischi ad esempio di tipo fisico non è che io sto finanziando degli investimenti che domani che utilizzano ad esempio degli stabilimenti in luoghi che sono soggetti a forti cambiamenti climatici e domani avranno dei problemi relativi alla diciamo alla continuità produttiva perché magari danneggiati gli impianti di produzione da eventi climatici estremi che nel corso degli anni stanno aumentando in modo vertiginoso oppure non è che cambiamenti climatici di lungo periodo come i cambiamenti di temperatura la biodiversità l'innalzamento del mare e così via la produttività del suolo non è che questi cambiamenti mi rendono impossibile continuare l'attività economica che io vado finanziando quindi mi dice l'Unione Europea io devo essere attento al fatto che l'economia europea e quindi anche le attività economiche europee non incorrano non incorrano i rischi sia quelli di tipo ambientale sia di quelli di transizione cioè non è che tu stai diciamo investendo in in attività che ad esempio hanno tecnologie superate oppure dove ci sono rischi giuridici per controverse giuridiche molto rilevanti oppure che non tengono conto delle politiche ambientali europee che nel frattempo vanno mutando in modo molto impetuoso in merito all'utilizzo di determinati input di materia ecco questo elemento qua è molto rilevante quindi l'Unione Europea ha voluto attraverso il documento sulla finanza sostenibile ma anche successivamente con i documenti sul PNRR ha voluto far riferimento vedete qua a quattro categorie di diciamo di eventi estremi l'aumento delle temperature la ventosità la ventosità gli eventi connessi a diciamo alle acque e quindi dagli stress idrici si cita alle forti precipitazioni o addirittura alle inondazioni e le masse solidi le valanghe le frane l'erosione del suolo all'interno del PNRR l'Unione Europea vuole che tutti i piani quando diciamo nelle azioni finanziate attraverso i piani nazionali di ripresa e resilienza venga rispettato il principio di non arricare danno significativo all'ambiente e quindi vi chiede intervento per intervento se voi avete tenuto conto di come questi rischi possono impattare sull'attività che voi vorreste mettere finanziata proprio per evitare che si vada finanziando un'attività che domani è fortemente sottoposta a rischi di tipo ambientale soprattutto per queste quattro categorie quindi è questo il motivo per cui l'Unione Europea ha stabilito in particolare attraverso questa tassonomia ha stabilito che tra i requisiti fondamentali del per dire che un'attività ambientale un'attività economica è sostenibile oppure no e quindi se è sostenibile non è eccessivamente rischiosa se non è sostenibile invece è molto rischiosa vuole che vengono rispettati in modo vengono perseguiti in modo sostanziale almeno uno dei sei obiettivi ambientali che non venga regato un danno significativo all'ambiente per gli altri ricordiamo che gli obiettivi ambientali sono sei i sei che abbiamo visto in una delle slide iniziali quindi mitigazione climatica adattamento climatico gestione delle acque riduzione degli inquinanti in acqua aria suolo economia circolare e tutela della biodiversità quindi da una parte devi garantire quell'attività economica che contribuisce in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali che sono stati definiti ma non reghi un danno significativo agli altri cinque per cui magari non migliori in modo sostanziale infine però ha anche detto che devi rispettare delle garanzie minime di salvaguardia sociale vedete come anche nella tassonomia come anche nella tassonomia gli aspetti ambientali e gli aspetti sociali sono strettamente collegati strettamente collegati eccoli qua i sei aspetti della tassonoma ambientale ma sono quelli che abbiamo visto in una delle slide precedenti questi sei obiettivi sono quelli di cui vi parlavo prima e i diritti umani e sociali che invece abbiamo detto sono le clausole di salvaguardia che la tassonomia vuole che vengano rispettate essenzialmente parliamo del rispetto delle convenzioni fondamentali dell'organizzazione internazionale del lavoro cioè dell'ILO documenti che sono ben noti appunto in ambito in Nazioni Unite ma anche le linee guida dell'Ox destinate in particolare alle imprese multinazionali che hanno a che vedere soprattutto con il rispetto dei diritti umani in fasi delle filiere produttive fortemente critiche sul lato del rispetto dei diritti umani penso soprattutto alle fasi di estrazione delle risorse minerali delle risorse dalla costa terrestre e infine anche i principi guida su imprese e diritti umani noi abbiamo appunto un organismo il CIRU che si occupa appunto presso il Ministero degli Esteri che si occupa del rispetto dei principi guida su imprese e diritti umani tutti questi documenti mi vanno a definire che cos'è che l'Unione Europea intende quando nella tassonomia ambientale fa riferimento alla necessità di avere delle clausole di salvaguardia sociale inoltre l'Europa nel corso degli ultimi anni in particolare al vertice di Gedeberi del 2017 ha approvato poi ribadito appunto appunto a porto nel 2020 quello che si chiama il pilastro europeo dei diritti sociali il pilastro europeo dei diritti sociali il che significa appunto una serie di condizioni che hanno a che vedere con la pari opportunità e l'accesso equo al mercato del lavoro le condizioni di lavoro eque cioè occupazione flessibile e sicura le retribuzioni eque giuste giusto compenso la protezione in caso di licenziamento il dialogo sociale tra parti sociali che appunto che venga garantito l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare cioè elementi che hanno a che vedere con l'equità delle condizioni di lavoro e la protezione sociale e l'inclusione che hanno meno a che vedere con gli aspetti relativi al codice dei contratti sono soprattutto quelli relativi al capo 1 e al capo 2 come dire che quando parliamo anche della taxonomia ambientale delle condizioni delle clausole di salvaguardia sociale facciamo sempre riferimento a questi insieme di aspetti che garantiscono essenzialmente pari opportunità e accesso al mercato del lavoro condizioni di lavoro eque e rispetto dei diritti umani lungo le catene di fornitura inoltre nel corso degli ultimi anni stiamo anche elaborando al pari della taxonomia ambientale una taxonomia sociale focalizzata molto focalizzata sul lavoro dignitoso adeguato standard di vita e comunità inclusive e sostenibili che definirà al pari della taxonomia ambientale definirà quali sono quegli indicatori guida quegli indicatori chiave per avere appunto garantiti rispetto dei diritti sociali infine appunto tra questi documenti vi ho solo vi cito a passare il documento quello relativo a pronti per il 55% cioè quello che mi dà le condizioni affinché le politiche europee in materia di clima energia uso del suolo trasporti mi permettano di ridurre le emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e come vedete sono focalizzate su quattro aspetti almeno tre di questi aspetti ma insomma direi tutti e quattro hanno a che vedere con il GPP cioè riduzione di prestazioni più rigorose anche se nel corso degli anni di questi ultimi mesi c'è stato un stop su questa politica di riduzione dell'emissione di CO2 per chilometro delle auto però rispetto a quella prevista era molto più grande però meno CO2 dal trasporto di auto e furgoni meno CO2 per il consumo energetico degli edifici uso di fonti energetiche rinnovabili negli edifici e per questi due elementi consideriamo quanto si può fare sugli edifici pubblici riduzione dei consumi energetici delle produzioni industriali che significa che possono ridurre questi possono introdurre dei criteri che hanno a che vedere con i consumi energetici all'interno dell'acquisto dei beni e dei servizi e infatti possono introdurre in questa tipologia gli acquisti edilizia servizi energetici servizi di illuminazione mezzi di trasporto la ristorazione collettiva la carta che consuma tantissima energia i servizi di stampa i prodotti elettronici con tutto il consumo energetico in fase d'uso settore tessile anche settore fortemente altro settore fortemente energivoro la realizzazione degli eventi in tutti questi casi posso ridurre le emissioni di CO2 posso decarbonizzare attraverso delle introduzioni di criteri ambientali e sociali per andare verso la conclusione di questa prima parte l'Unione Europea ha introdotto degli strumenti europei per diffondere per diffondere il GPP oltre ai documenti quelli che abbiamo visto prima e quindi abbiamo appunto piano di azione nazionale dei criteri comuni europei che vengono individuati e sulla base dei quali vengono costruiti i criteri ambientali minimi nazionali per ogni singolo paese l'obiettivo un obiettivo di Green Public Procurement che non è ancora mandatorio obbligatorio ma lo sarà con la normativa sull'ecodesign degli indicatori di monitoraggio che mi permettono di verificare se l'Unione Europea sta andando nella direzione auspicata oppure no e appunto il pacchetto dell'economia circolare che prevede un indicatore espressamente previsto per il GPP piani di azione europea per il GPP ogni paese piani di azione nazionale scusate per il GPP finora 23 paese su 27 si sono dotati di un piano di azione nazionale come vi dicevo l'Italia sta alla terza versione del proprio piano di azione nazionale l'ultima è del 2023 ne mancano ancora 4 di paesi criteri comuni europei l'Unione Europea ha stabilito dei criteri comuni scusate qua c'è un dicembre 2022 invece 2023 ha stabilito dei criteri comuni che riguardano alcune categorie mercologiche molti di questi criteri sono adottati dall'Unione Europea sono scusate adottati poi dai singoli paesi membri e traslati all'interno dei criteri ambientali insomma criteri ambientali minimi nazionali ecco qua un 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 quadro dell'obbligatorietà del GPP e vedete che l'Italia fin dall'articolo 34 della precedente normativa per corrige dei contratti ha previsto una obbligatorietà del Green Public Procurement ed è quindi un elemento è un paese guida nell'attuazione delle politiche sul GPP come vedete gli indicatori di monitoraggio adottati dall'Unione Europea sono essenzialmente la quota percentuale del GPP sul totale degli acquisti pubblici in valore che appunto può essere stabilita dal dal nostro diciamo dal dal nostro sistema europeo per verificare se stiamo andando nella giusta direzione quanto sul totale degli acquisti quanti sono gli acquisti pubblici che hanno adottato i criteri ambientali e infine appunto nel sistema di monitoraggio dell'economia circolare l'indicatore numero due che prevede l'utilizzo diciamo prevede il monitoraggio della quota di appalti pubblici verdi per sapere se stiamo andando nella direzione dell'economia circolare tutte queste politiche sono non solo europee ma sono anche nell'agenda 2030 che è al punto 12 all'obiettivo 12.7 parla appunto della necessità di promuovere appalti pubblici sostenibili per raggiungere il diciamo andare nella direzione di un consumo e di una produzione responsabile e sostenibile quindi gli acquisti pubblici verdi come strumento per la promozione di politiche per il consumo e la produzione sostenibile un riepilogo il GPP è quindi uno strumento che aiuta l'impresa europea che è un pilastro del grandillo europeo riduce l'emissione di gas clima alterati quindi va nella direzione della decarbonizzazione rafforza l'economia circolare allo stesso tempo aiuta le imprese a rispettare quei criteri quelli definiti dalla tassonomia ambientale che verranno richiesti sempre di più dal mercato del credito e inoltre in questo modo riesce a tutelare i diritti umani lungo le catene di fornitura direi di qua possiamo anche interrompere questa bella fase perfetto grazie mille grazie mille dottor Falocco ehm prima di passare la la parola alla dottoressa Vocino per la seconda parte facciamo una pausa e ci ritroviamo qui alle dieci e venticinque grazie a tutti e a tra poco a dopo grazie a tutti 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 eccoci qui ci siamo possiamo già iniziare a dare la parola alla dottoressa Vocino eccoci a tutti grazie a tutti grazie a tutti eccoci vedete vedete le slide perfettamente Ok, benissimo. Prego. Allora, buongiorno di nuovo a tutti. In questa seconda sessione della lezione di oggi vedremo nel dettaglio il codice dei contratti pubblici, il nuovo codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 36-2023, che ha stabilito... Scusate, non va avanti la slide. Ecco, abbiamo stabilito tutta una serie di disposizioni per rendere sempre più operativo il Green Public Procurement nelle nostre procedure di gara. Il decreto legislativo 36, il nuovo codice dei contratti pubblici, ripetisce e chiarisce talvolta alcuni passaggi che comunque già erano stati ampiamente illustrati e riportati nel vecchio codice 50 del 2016, e ampliando anche alcuni elementi, alcuni aspetti del Green Public Procurement. Questi che vedete nella slide sono una decina di articoli che sono quelli importanti e fondamentali per l'applicazione del Green Public Procurement nelle nostre procedure di gara. Quindi il primo che vedremo è l'articolo 57, che stabilisce proprio l'obbligo per le stazioni appaltanti di applicare i criteri ambientali minimi, e cioè applicare il Green Public Procurement nelle procedure di gara per lavori, per servizi e per l'acquisto di forniture. Poi ci sono altri articoli, il 79, l'80 e così via, che vedremo nel dettaglio, che contengono tutte le disposizioni necessarie a rendere operativo il GPP nelle procedure di gara. Questo che vedete nella slide invece è un confronto tra il vecchio codice dei contratti sulla sinistra e i corrispondenti articoli nel nuovo codice dei contratti. Quindi nel vecchio codice l'articolo 34 era l'articolo che introduceva l'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi nelle procedure di gara, e in questo nuovo codice invece abbiamo l'articolo 57, che con alcune aggiunte sostanzialmente conferma quanto già indicato nel vecchio codice. L'articolo 68 che conteneva le disposizioni su come definire le specifiche tecniche dei prodotti, dei servizi e dei lavori con delle caratteristiche ambientali, e qui invece nel nuovo codice abbiamo l'articolo 79 all'interno di un allegato al corpus principale del codice. L'articolo 69 del vecchio codice che conteneva le disposizioni per le etichettature dei prodotti, quindi per le caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti, e nel nuovo codice invece abbiamo l'articolo 80, sempre nell'allegato secondo. L'articolo 82 che contiene le disposizioni per quanto riguarda i rapporti di prova, le certificazioni e anche altri mezzi di prova che si possono utilizzare per dimostrare la conformità alle specifiche tecniche, e in questo caso nel nuovo codice invece abbiamo gli articoli 87 e 105, sempre nell'allegato secondo. Altri mezzi di prova avevamo nell'articolo 86, vedremo appunto di che si tratta questa volta nel nuovo codice, lo abbiamo sempre negli articoli 87 e 105, le condizioni di esecuzione dell'appalto, quindi le cosiddette clausole contrattuali che avevamo nell'articolo 100 e oggi questo articolo è diventato il 113, l'articolo poi 95 che contiene i criteri di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi tutti i criteri ambientali che si possono utilizzare per aggiudicare un'offerta sulla base appunto dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel nuovo codice abbiamo l'articolo 108. Il 96 invece contiene una specificazione di uno dei criteri di aggiudicazione che è quello di valutare il costo lungo il ciclo di vita e in questo nuovo codice lo ritroviamo, ritroviamo queste disposizioni nell'articolo 87 e infine vedremo adesso anche l'articolo 93 che contiene nel vecchio codice dell'articolo 93 sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara e questa volta nel nuovo codice invece troviamo questa parte delle garanzie nell'articolo 106. Partiamo dunque con la disamina di questi articoli che appunto ripeto ci servono per capire in che modo gestire in modo corretto una procedura di gara con i criteri ambientali minimi, quindi una procedura di gara che sia conforme diciamo ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente. Partiamo proprio dall'articolo 57 che contiene i criteri di sostenibilità sociale e ambientali. Il primo comma riguarda gli aspetti sociali, quindi criteri di sostenibilità sociale, di affidamenti, dei contratti sia di lavori, di appalti di lavori che di servizi, quindi qui non stiamo parlando soltanto di lavori e di servizi, non anche di appalti per l'acquisto di fornitura e gli affidamenti anche di contratti di concessione devono contenere delle specifiche clausole sociali. Queste specifiche clausole sociali devono riguardare delle misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, le pari opportunità di genere, di inclusione lavorativa per persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato e infine non per ultimo l'applicazione ovviamente dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. Quindi questo per quanto riguarda l'appalto di lavori e di servizi e per i contratti di concessione, quindi sempre devono essere presenti delle specifiche clausole sociali che riguardano questi aspetti che abbiamo visto. Il secondo coma invece riguarda proprio criteri di sostenibilità invece ambientali e infatti il secondo coma ci dice che le stazioni appaltanti e anche nel caso di concessioni devono contribuire le stazioni appaltanti concedenti al conseguimento degli obiettivi ambientali che sono previsti dal piano di azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Questo piano di azione lo vedremo domani nel dettaglio ma è un piano di azione sul Green Public Procurement che prevede una serie di obiettivi e prevede anche la pubblicazione di criteri ambientali da parte del Ministero dell'Ambiente questo piano di azione è stato scritto e pubblicato dal Ministero dell'Ambiente domani lo vedremo nel dettaglio, siamo già al terzo aggiornamento di questo piano di azione e contiene anche tutto il programma che il Ministero dell'Ambiente ha fatto ha stabilito per la pubblicazione anche in futuro di nuovi criteri ambientali minimi per attività di servizi, di prodotti e di lavori per quanto riguarda edilizia, strade e così via quindi le stazioni appaltanti devono contribuire al conseguimento degli obiettivi che sono stabiliti da questo piano nazionale in che modo? almeno integrando e inserendo nella documentazione sia progettuale che nella documentazione di gara almeno due elementi che sono contenuti nei criteri ambientali minimi pubblicati dal Ministero dell'Ambiente sia le specifiche tecniche che le clausole contrattuali domani poi vedremo anche nel dettaglio in che modo i diversi criteri ambientali minimi hanno definito queste specifiche tecniche e clausole contrattuali per le diverse categorie di prodotto, di servizi e di lavori quindi partecipano le stazioni appaltanti e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di GPP attraverso specifiche tecniche e clausole contrattuali talvolta all'interno dei CAM, dei criteri ambientali minimi il Ministero stesso, cioè il Mase, può eventualmente differenziare le specifiche tecniche le clausole contrattuali eventualmente anche in base al valore dell'acquisto al valore dell'appalto o al valore della concessione quindi questo è un elemento in più che non c'era nel vecchio codice ma che lo sottolineo è questa differenziazione o è tecnicamente opportuna, peraltro la decide il Mase non è che la decide la stazione appaltante quindi le specifiche tecniche dei CAM e le clausole contrattuali dei CAM sono applicate obbligatoriamente a tutti i tipi di contratti e quindi per acquisto di prodotti, per servizi e per lavori e qualunque sia l'importo appunto di queste procedure di gara quindi sono criteri obbligatori, le specifiche tecniche, le clausole contrattuali per qualunque tipo di appalto e di entità dell'appalto è solo il Mase che decide eventualmente all'interno degli stessi CAM se graduare diciamo così le specifiche tecniche quindi l'impegno per quanto riguarda le clausole contrattuali o le specifiche tecniche in base al valore dell'appalto non è la stazione appaltante inoltre questo comma 2 prosegue dicendo che i CAM contengono anche dei criteri premianti che devono essere tenuti in considerazione quando si vanno a definire i criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa quindi tutti i CAM contengono criteri premianti che devono essere tenuti in considerazione sono diciamo così l'obbligo è meno evidente rispetto a specifiche tecniche e clausole contrattuali vuol dire che i criteri premianti all'interno dei CAM sono di solito in un numero diciamo abbastanza ampio e quindi le stazioni appaltanti possono utilizzare questi criteri premianti per l'offerta economicamente più vantaggiosa scegliendo 2, 3, 1 criteri premianti tra quelli proposti all'interno dei CAM tutti i CAM lo vedremo anche domani con una serie di esempi di criteri ambientali minimi tutti i CAM sono sostanzialmente strutturati nello stesso modo ossia c'è un capitolo di premessa nel CAM dove ci sono delle indicazioni generali che il Ministero dell'Ambiente dà alle stazioni appaltanti e poi c'è l'oggetto dell'appalto la definizione dell'oggetto dell'appalto cioè come deve essere scritto l'oggetto dell'appalto all'interno dei documenti di gara poi i CAM sono costituiti da dei criteri che possiamo chiamare di base cioè sono criteri che possono essere criteri di selezione dei candidati quindi che vanno a definire dei requisiti soggettivi delle imprese che possono partecipare alle gare e poi contengono i due elementi obbligatori dei CAM che sono appunto le specifiche tecniche e le clausole contrattuali come abbiamo visto nell'articolo 57 in più come abbiamo anche detto contengono i CAM anche una serie di criteri premianti questi criteri premianti possono riguardare sia specifiche tecniche del prodotto del servizio o dei lavori ma possono anche riguardare delle clausole contrattuali e adesso poi vedremo anche alcuni esempi quindi questa è la struttura di tutti i criteri ambientali minimi che il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato fino ad oggi e che pubblicherà poi che continuerà a pubblicare su altre categorie di appalto vediamo adesso gli altri articoli del codice dei contratti a partire da quegli articoli che aiutano la stazione appaltante a definire in maniera corretta l'oggetto dell'appalto quindi la fornitura o il servizio oppure i lavori che devono essere appaltati quindi vediamo partiamo dal 77 consultazione pre-mercato è un articolo già nel codice che ci aiuta a definire meglio l'oggetto dell'appalto cioè dottoressa vocino mi scusi se la interrompo c'è un problema di audio perché c'è un problema di banda di rete nella sua rete quindi le consiglierei di chiudere lo schermo quindi il suo video magari riusciamo a sentire meglio eccomi adesso devo ripetere qualcosa l'ultimissima parte grazie va bene allora dicevo partiamo con questo articolo 77 consultazioni preliminari di mercato è un articolo che aiuta le stazioni appaltanti a consultare appunto le imprese per definire meglio l'oggetto dell'appalto che cosa vuol dire? che dicevo è un articolo che c'era già nel vecchio codice dei contratti ma attraverso questo articolo appunto le stazioni appaltanti possono ovviamente non è obbligatorio però possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre in maniera corretta gli atti di gara che cosa vuol dire? vuol dire che possono sostanzialmente pubblicare un avviso pubblico qualche mese naturalmente è necessario un certo anticipo per informare intanto gli economici che ci sarà che è programmato l'appalto e quali sono i requisiti che saranno richiesti da quell'appalto ma possono richiedere attraverso questo avviso le stazioni appaltanti possono richiedere delle informazioni tecniche al mercato delle consulenze una relazione una documentazione che possa aiutare la stazione appaltante a chiarire bene soprattutto quando si tratta di appalti per esempio di natura tecnologica che servono la stazione appaltante dicevo per definire bene gli aspetti tecnici dei prodotti o dei servizi che la stazione appaltante deve acquisire questa richiesta di informazioni al mercato naturalmente non deve avere l'effetto di alzare la concorrenza non deve comportare violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza quindi serve soltanto a scopo informativo per permettere appunto alla stazione appaltante di scrivere correttamente tutti gli aspetti tecnici legati all'appalto stesso e veniamo adesso all'articolo 79 specifiche tecniche che appunto era già contenuto nel vecchio codice e sostanzialmente non cambia non è cambiato per niente rispetto all'ecchio codice le specifiche tecniche sono quella parte di descrizione dei lavori dei servizi e delle forniture che servono naturalmente le stazioni appaltanti per chiarire bene quali sono le caratteristiche dei prodotti dei servizi e dei lavori che appunto le stazioni appaltanti intendono acquisire le specifiche quindi tecniche nel nuovo codice le troviamo nell'allegato secondo nel punto 5 e queste specifiche tecniche appunto la cosa importante da sapere sulle specifiche tecniche che possono riferirsi non soltanto alle caratteristiche del prodotto in sé o del lavoro in sé o del servizio in sé ma possono riferirsi ai processi a uno o più processi che sono riferiti per esempio il processo di produzione di una fornitura il metodo di produzione le modalità di prestazione di alcuni lavori o dei servizi oppure di forniture e così via e possono riguardare una qualsiasi fase del ciclo di vita di questi lavori servizi e forniture quindi come abbiamo già un po' anticipato nella nella prima sessione il ciclo di vita di prodotti servizi e lavori riguarda tutti i processi a partire dall'estrazione della materia prima fino al fine vita delle forniture dei servizi e dei lavori quindi queste specifiche tecniche possono riguardare una qualunque fase del ciclo di vita la fase di estrazione della materia prima quindi della materia prima con cui produco la fornitura o i beni che mi occorrono per eseguire un servizio fino al fine vita per esempio le modalità di gestione appunto della dismissione di un prodotto tecnologico e così via quindi queste specifiche tecniche possono riguardare non soltanto gli aspetti diciamo legati al prodotto finito alla fornitura in sé ai lavori ai servizi a un qualsiasi processo che riguardi tutto l'intero ciclo di vita di questi elementi quindi per naturalmente il terzo comma poi ci richiama il fatto che nelle specifiche tecniche se l'appalto è destinato all'uso da parte di persone fisiche le specifiche tecniche devono andare a definire in modo chiaro quali sono i criteri di accessibilità per le persone con disabilità e quindi anche quello che si chiama quelli che sono i criteri di progettazione universale per tutti gli utenti sempre l'articolo 79 prosegue in che modo le specifiche tecniche devono essere formulate possono essere formulate in due modi le specifiche tecniche tutto questo naturalmente lo ritroverete nei CAM stessi nelle specifiche tecniche dei CAM perché appunto anche le specifiche tecniche dei CAM sono esattamente scritte dal Ministero dell'Ambiente seguendo precisamente queste disposizioni del codice quindi le specifiche tecniche anche nei CAM le vedrete formulate in due forme diverse in due formulazioni diverse la prima è in termini di prestazioni o di requisiti funzionali quindi nel nostro caso nei CAM atterranno queste prestazioni requisiti funzionali alle caratteristiche ambientali in questo caso deve esserci una descrizione sufficientemente precisa perché i proponenti devono capire bene quali devono essere le caratteristiche dei servizi dei prodotti e dei lavori l'altro modo l'altra modalità è invece semplicemente facendo riferimento a delle norme a delle norme europee a delle valutazioni tecniche europee a specifiche tecniche comuni come per esempio i criteri comuni europei a norme internazionali anche non soltanto europee a sistemi tecnici di omologazione di normalizzazione e così via quindi o definire bene la prestazione o il requisito funzionale oppure fare riferimento a norme di qualunque tipo naturalmente norme consolidate norme ufficiali per esempio vediamo in questo esempio del cam arredo in che modo è scritta una specifica tecnica nella definizione delle prestazioni o requisiti funzionali questo è il paragrafo 327 plastica riciclata del cam arredi ci dice il cam se il contenuto totale di materiale plastico supera il 20% del peso totale del prodotto il contenuto di riciclato delle parti in plastica deve essere almeno pari al 50% in peso sul peso totale del prodotto questo è un modo di stabilire una specifica tecnica di un arredo per questo caso andando a definire qual è il requisito funzionale in questo caso il contenuto di riciclato della plastica come vedete questa questa prestazione questo requisito funzionale riguarda una fase ben precisa del ciclo di vita dell'arredo in plastica della parte diciamo di arredo in plastica cioè il prodotto finito se vogliamo anche la fase di produzione perché nella fase di produzione naturalmente che si vanno a mescolare le materie prime con le materie invece con contenuto di riciclato però è definita la prestazione su una fase precisa del ciclo di vita del prodotto questo invece è la normalità per scrivere le specifiche tecniche e cioè facendo riferimento a delle norme tecniche questo ad esempio è il CAM ristorazione il requisito che riguarda gli imballaggi degli alimenti il CAM ci dice che l'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui è l'allegato F della parte quarta del decreto legislativo 152 così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche e in particolare ed elenca le norme tecniche che riguardano gli imballaggi a cui quindi la specifica tecnica fa direttamente riferimento poi però sempre l'articolo 79 ci dice anche che le specifiche tecniche possono essere formulate anche diciamo mischiando i due le due formulazioni che abbiamo visto prima quindi o in termini di prestazioni requisiti funzionali che abbiamo visto prima ma con riferimento anche per alcuni aspetti a delle norme di riferimento oppure mediante riferimento alle norme ma per alcuni aspetti ci si può riferire anche a requisiti funzionali o prestazioni quindi sostanzialmente sono due le modalità ma per alcuni quando per esprimere meglio le caratteristiche del prodotto del servizio o dei lavori ci occorre un mix delle due formulazioni lo possiamo fare e tant'è vero che nei CAM ci sono a volte specifiche tecniche di questo tipo sempre sulle specifiche tecniche dobbiamo sapere che non possiamo mai menzionare quando definiamo nei documenti progettuali e di GAM specifiche tecniche non possiamo mai menzionare una fabbricazione specifica una provenienza specifica del prodotto o un procedimento particolare del prodotto né tantomeno ovviamente far riferimento a un marchio un brevetto un tipo specifico del prodotto o di un servizio naturalmente per salvaguardare la concorrenza quindi non si possono menzionare c'è solo un'eccezione e cioè quando soprattutto nel caso di per esempio di prodotti innovativi di altre tecnologie e così via nel caso a cui appunto sia possibile descrivere in maniera precisa le caratteristiche dell'oggetto dell'appalto come abbiamo visto prima in questo caso possiamo comunque menzionare un marchio un brevetto e così via però dobbiamo sempre scrivere nei documenti di gara che appunto si fa riferimento alle caratteristiche di quel marchio o prodotti equivalenti quindi sempre devono essere accompagnati con l'espressione equivalente questi dettagli su come scrivere le specifiche tecniche le stiamo dicendo perché naturalmente i criteri ambientali minimi sono appunto criteri minimi le stazioni appaltanti come sapete possono includere all'interno dei documenti progettuali di gara altre specifiche tecniche aggiuntive purché siano sempre scritte seguendo le disposizioni del codice ancora per quanto riguarda le specifiche tecniche dobbiamo sempre tenere conto del principio di equivalenza che fa sì che le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta se non è conforme alle prestazioni che sono o ai requisiti funzionali che sono indicati nel documento di gara nelle specifiche tecniche se quest'offerta ottempera in modo equivalente la prestazione o il requisito funzionale quindi non possiamo escludere un'offerta se però l'offerente dimostra nella propria offerta con qualsiasi mezzo appropriato compresi i mezzi di prova che poi vedremo nell'articolo 105 se dimostra appunto che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalenti alle prestazioni e ai requisiti funzionali delle specifiche tecniche che sono indicate nel bando di gara che cosa vuol dire per esempio se sto facendo un appalto per l'acquisto di calzature DPA DPI cioè calzature per esempio per lavoro se nelle specifiche tecniche scrivo per esempio che è necessaria una suola di poliuretano per l'assorbimento dei traumi durante la appunto durante la camminata e così via se l'offerta piuttosto che il poliuretano mi offre una scarpa che ha una suola invece con un altro uno strato diciamo un prodotto non di poliuretano ma di un altro prodotto che però ottempera in modo equivalente alla stessa funzione cioè la funzione di attutire i traumi io non posso escludere quell'offerta quindi questo è il principio cosiddetto principio di equivalenza che però il cui onere della prova spetta con l'offerente quindi è lui che deve dimostrare nell'offerta con qualsiasi mezzo approcato che appunto è il prodotto per l'esempio che facevo ottempera ha la stessa funzione e veniamo all'articolo ora 113 cioè le clausole contrattuali le clausole contrattuali che troviamo praticamente in tutti i CAM sono delle condizioni particolari di esecuzione dell'appalto quindi clausole contrattuali e condizioni di esecuzione dell'appalto è la stessa cosa e sono delle clausole che le stazioni appaltanti possono richiedere nel caso in cui ci siano dei requisiti particolari che vanno che il futuro appaltatore dovrà tenere in conto nella gestione dell'appalto queste clausole contrattuali queste condizioni particolari dell'appalto possono riguardare sia esigenze sociali che esigenze ambientali il classico la classica clausola contrattuale legata aspetti ambientali è quella per esempio del trasporto delle forniture su dei mezzi a basso impatto ambientali quando ci sono delle clausole contrattuali delle condizioni particolari che devono essere rispettate nella fase e ricordiamo che le clausole contrattuali sono obbligatorie per gli operatori economici quindi sono obbligatorie la parte dei CAM che riguardano le clausole contrattuali devono sempre essere incluse nei documenti di gara in questo caso quindi quando ci sono delle clausole contrattuali gli operatori economici in fase di gara devono dichiarare che accetteranno i requisiti particolari che accetteranno le clausole contrattuali quindi vanno fatte firmare già in sede di gara l'impegno ad accettare le clausole contrattuali adesso passiamo a una serie di altri articoli che ci mostrano in che modo dimostrare le specifiche tecniche di cui abbiamo appena parlato e anche le clausole contrattuali in che modo quindi i proponenti possono gli offerenti possono dimostrare che il prodotto è conforme a quanto richiesto nelle specifiche tecniche dalla stazione appaltante lo vediamo nell'articolo 80 il primo articolo che riguarda le etichettature questo articolo ci spiega che le stazioni appaltanti possono richiedere delle etichettature specifiche che riguardano o le caratteristiche ambientali o le caratteristiche sociali o anche altri tipi di caratteristiche dei prodotti dei servizi o dei lavori e quindi la stazione appaltante può richiedere un'etichettatura specifica come mezzo di prova un marchio per esempio quindi il mezzo di prova è semplicemente la presenza dell'etichettatura o del marchio quindi quando c'è un'etichettatura la stazione appaltante in sede di valutazione delle offerte non deve verificare alcunché semplicemente deve verificare soltanto ovviamente la 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 legittimità dell'etichetta e anche la data di scadenza dell'etichettatura o del marchio e così via queste etichettature o marchi ambientali naturalmente devono avere delle caratteristiche ben precise cioè devono essere delle i requisiti che sono indicati nell'etichettatura devono essere idonei connessi all'oggetto quindi ci deve essere un'immediatezza del requisito ambientale nel caso nostro con il prodotto stesso ovviamente sempre tenendo conto di tutto l'intero ciclo di vita del prodotto quindi questi requisiti devono riguardare possono riguardare un qualunque una qualunque fase del ciclo di vita devono essere basati questi requisiti su criteri oggettivi verificabili e non discriminatori per i vari per le varie imprese per i vari produttori devono essere stabiliti poi con un procedimento aperto e trasparente quindi deve esserci una procedura che prevede il la condivisione di dei requisiti con enti pubblici consumatori parti sociali produttori e così via quindi devono esserci dei criteri dei requisiti proprio di trasparenza nella definizione dei requisiti ambientali e anche sociali devono essere accessibili a tutte le parti interessate quindi tutti i produttori possono ottenere l'etichettatura naturalmente seguendo una procedura ben precisa e poi l'ultimo requisito che devono avere le etichettature è che devono essere stabilite da enti terzi quindi non devono esserci i produttori per esercitare un'influenza determinante sulla definizione dei requisiti dei prodotti quindi le etichettature come mezzo di prova per cui se nella nostra procedura di guara per l'acquisto di un prodotto stabiliamo che il prodotto debba essere debba avere come mezzo di prova un'etichettatura possiamo andare a appunto verificare semplicemente la data di scadenza dell'etichettatura stessa o in alcuni casi se le stazioni appaltanti non vogliono fare riferimento a tutti i requisiti che sono contenuti nell'etichettatura perché le etichettature e i marchi ambientali naturalmente contengono al loro interno una serie di requisiti ambientali in questo caso le stazioni appaltanti nei documenti di gara e di progettuali possono indicare quali sono i requisiti dell'etichettatura di cui i proponenti devono tenere conto quindi soltanto per quei requisiti diciamo viene richiesta l'etichettatura come mezzo di prova o inoltre naturalmente di etichettature ce ne sono molte sul mercato le etichettature e i marchi ambientali di solito sono espressione di associazioni di enti comunque privati anche quindi le stazioni appaltanti che esigono una specifica etichettatura devono però sempre accettare anche le etichettature equivalenti cioè quelle etichettature che al loro interno contengono dei requisiti equivalenti all'etichettatura che la stazione appaltante ha indicato in sede di gara quindi anche qua vige il principio di equivalenza in questi casi naturalmente c'è un po' di lavoro in più per le stazioni appaltanti perché devono andare a verificare che i requisiti siano effettivamente equivalenti tra un'etichettatura e l'altra c'è un'altra condizione che dobbiamo tenere in conto e cioè quando un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura che la stazione appaltante ha indicato in sede di gara in questo caso l'operatore economico può presentare altri mezzi di prova tra cui anche una documentazione tecnica del fabbricante che serva appunto a dimostrare che il prodotto o il servizio o i lavori sono conformi ai requisiti contenuti nell'etichettatura o nel marchio ambientale che la stazione appaltante ha scelto come mezzo di prova questo è un caso particolare quindi l'operatore economico deve dimostrare che non è riuscito ad ottenere in tempo l'etichettatura o il marchio ambientale ma deve dimostrare che il suo prodotto è conforme attraverso una documentazione tecnica questi sono degli esempi di etichettature di marchi ambientali che trovate nei CAM del Ministero dell'Ambiente e per quanto riguarda le etichettature in particolare le etichettature ecologiche che sono citate nei diversi CAM ma dobbiamo sapere che sono di tre tipi quindi trovate nei CAM molto spesso etichettature di questi tre di questi tre tipi che fanno riferimento a delle norme ISO diverse ci sono cioè etichettature cosiddette di tipo primo che fanno riferimento alla norma ISO 14.024 sono delle etichette basate sempre su un sistema multicriteria cioè contengono più requisiti ambientali che vanno a considerare l'intero ciclo di vita del prodotto del servizio e così via poi ci sono le etichettature di tipo 2 di tipo secondo che sono le autodichiarazioni del produttore e sono scritte queste autodichiarazioni una sorta di autocertificazione diciamo così del produttore sono scritte secondo le disposizioni della norma ISO 14.021 queste autodichiarazioni sono un tipo di etichettatura che sta per essere diciamo sta piano piano sta per essere esclusa dai CAM perché appunto si tratta sostanzialmente di un'autodichiarazione quindi non ha dal punto di vista del contenuto non ha le caratteristiche degli altri tipi di etichettatura cioè la stazione appaltante è costretta nel caso dell'autodichiarazione a fare tutta una serie di verifiche aggiuntive e quindi diciamo l'etichettatura che serve anche per semplificare il processo di verifica della conformità dei prodotti dei servizi è un po' con questo tipo di autodichiarazione non è utile a semplificare anzi si aggiungono i tempi di verifica della conformità quindi le autodichiarazioni negli ultimi CAM c'è scritto nelle diverse specifiche tecniche possono essere utilizzate dai produttori soltanto fino alla fine fino alla data di scadenza poi non possono essere rinnovate quindi il produttore deve necessariamente certificare il proprio prodotto con un'altra etichettatura o con etichettatura di tipo primo con l'ultimo tipo di etichettatura che è un'etichettatura di tipo terzo le cui viene redatta seguendo le disposizioni della ISO 14.025 anche questo tipo di etichettatura è una dichiarazione ambientale di prodotto TAP oppure in inglese EPD Environmental Product Declaration questa è un'etichettatura che come quelle di tipo primo si basano sull'analisi del ciclo di vita ma va a dare tutta una serie di informazioni di tipo quantitativo su tutti i processi di tutto il ciclo di vita del prodotto del servizio del lavoro mentre invece le etichette di tipo primo sono etichette che sono cosiddette appunto multicriteria cioè stabiliscono dei requisiti specifici che il produttore deve dimostrare attraverso una serie di procedure di verifiche quindi quella di tipo primo riguarda solo alcuni requisiti del prodotto mentre quella di tipo tre riguarda tutti i processi di tutto il ciclo di vita del prodotto quindi è diciamo più completa dal punto di vista delle informazioni ambientali quella di tipo tre ma la differenza tra le due entrambe sono convalidate da un organismo di valutazione della conformità quelle di tipo primo e quello di tipo terzo quindi con questo tipo con questo tipo di etichettatura diciamo sostanzialmente la statica appaltante anche qua non deve fare alcunché soltanto che etichettature di tipo prima che vengono diciamo chiamate anche etichettature a soglia adesso vedremo perché sono delle etichettature che stabiliscono delle requisite ambientali di riferimento quindi se il prodotto è conforme alle soglie stabilite dall'etichettatura viene appunto viene certificato altrimenti non non può essere certificato quindi sono delle etichettature che stabiliscono dei requisiti ambientali molto molto impegnativi per per il produttore e la classica etichettatura di tipo primo è l'ecolabel quindi contiene dei requisiti molto molto impegnativi da aggiungere per cui con etichettature di primo di tipo primo siamo sicuri che il prodotto il servizio il lavoro hanno delle caratteristiche ambientali di sostenibilità ambientali molto molto elevate le etichettature di tipo 3 sono etichettature che danno tantissime informazioni ambientali che si basano sull'analisi del ciclo di vita del prodotto del servizio o del lavoro ma non ci sono delle soglie di riferimento come nell'etichetta di tipo primo quindi talvolta occorre verificare all'interno delle tabelle che adesso vedremo quali sono le performance raggiunte dal prodotto dal servizio dal lavoro che è etichettato con questo tipo di etichettatura una sintesi dei tre tipi di etichettatura sono cose che già ho un po' detto cioè le etichettature di tipo primo sono delle etichettature multicriteri multicriteriali servono per selezionare i prodotti migliori sul mercato quindi quelle che ottengono l'etichettatura sono sicuramente prodotti che hanno una sostenibilità ambientale molto alta hanno una verifica indipendente quindi c'è un organismo di valutazione di conformità che li verifica quelle di tipo due sono le autodichiarazioni non c'è una verifica indipendente quindi non c'è una certificazione da parte di un organismo di valutazione di conformità mentre invece quelle di tipo 3 come le EPD sono multicriteri descrivono forniscono informazioni complete sul ciclo di vita servono per comparare due prodotti analoghi che hanno lo stesso tipo di etichettatura e anche questi sono comunque certificati da un ente terzo indipendente cioè da un organismo di valutazione di conformità le etichettature ecologiche questi sono alcuni esempi di etichettature ecologiche di tipo primo come il nostro Ecolabel poi possono capitare anche etichettature di tipo primo che sono state diciamo realizzate in altri paesi europei quindi devono essere come abbiamo visto c'è sempre il principio di equivalenza tra le etichettature quindi vanno semplicemente verificati i requisiti che siano analoghi che siano equivalenti e questo è un esempio di etichettatura di tipo primo come l'Ecolabel le etichettature di tipo primo come dicevo contengono sempre delle soglie per esempio questo è un requisito che trovate nell'Ecolabel che riguarda le pavimentazioni dure e in particolare in questo caso il requisito riguarda la fase di estrazione delle materie prime cioè le cave sostanzialmente di pietre naturale in questo caso ci sono delle soglie su questi indicatori ambientali sul quoziente di riciclo dell'acqua il quoziente di impatto della cava gli scatti di risorse naturali e così via e le soglie sono indicate qui nella tabella quindi se i prodotti se le materie prime le pietre naturali non rispondono a questi requisiti il prodotto non può essere etichettato la pavimentazione in questo caso non può essere etichettato con l'Ecolabel quindi sono etichettature a soglia queste di tipo primo per cui siamo sicuri che il prodotto queste soglie sono molto difficili diciamo così da raggiungere quindi siamo sicuri che il prodotto ha un'altissima sostenibilità ambientale le etichettature ecologiche invece di tipo 2 quelle appunto le autodichiarazioni o asserzioni ambientali autodichiarazioni rispondono a una norma tecnica abbiamo visto la ISO 1421 che va in dare come devono essere scritte queste asserzioni ambientali autodichiarate dal produttore quali termini devono usare quale metodologia di verifica e di valutazione devono essere utilizzate per l'etichettatura quali sono i termini che si possono utilizzare e i termini che non si possono utilizzare la responsabilità naturalmente rimane al produttore se trovate etichettature di tipo 2 ISO 14.021 che sono certificate da un organismo di valutazione alla conformità non ha senso perché non le etichettature di tipo secondo non sono sotto accreditamento di accredia quindi non c'è nessun organismo di organismo di valutazione della conformità che è autorizzato da accredia a certificare questo tipo di etichettature quindi attenzione non fatevi fuorviare dalla magari se c'è un organismo che ha certificato l'autodichiarazione perché non è non è possibile non è autorizzato a farlo da accredia ho queste etichettature di tipo 2 quindi possono usare soltanto alcuni termini sono indicate nella norma ISO quali sono quindi per alcune cose possono andare bene queste etichettature qua ma appunto come dicevo il Mase sta cercando di eliminarle piano piano perché come dicevo hanno bisogno di una verifica molto dettagliata da parte delle stazioni appaltanti anche qua sempre la ISO 14001 ci dice come sono anche i pittogrammi che si devono utilizzare sul prodotto per esempio per la riciclabilità del prodotto oppure per il contenuto di riciclato quindi la ISO dà tutta una serie di prescrizioni per questo tipo di etichettature poi arriviamo invece all'etichettature ecologico di tipo terzo che abbiamo detto danno tutte le informazioni ambientali su tutti i processi del ciclo di vita sono stabilite le modalità per diciamo arrivare all'etichettatura ecologica di tipo terzo stabilita dalla ISO 14.025 che stabilisce che per ottenere questa etichettatura il produttore debba fare far fare una analisi del ciclo di vita del prodotto del servizio del lavoro secondo le norme della serie ISO 14.040 che è la serie che appunto si occupa delle procedure di life cycle assessment in analisi del ciclo di vita anche in questo caso la ISO ci dice che quali sono le caratteristiche diciamo di questa etichettatura cioè ci dà questo l'analisi del ciclo di vita ci dà tutte le informazioni quantificate quindi sono informazioni sulle caratteristiche del prodotto su tutti i processi da partire dall'estrazione della materia prima alla fase di produzione alla fase di uso del prodotto del servizio e così via fino alla fase invece di fine vita e sono tutte informazioni quantificate e basate appunto sull'analisi del ciclo di vita è uno strumento non valutativo come le etichette Ecolabel quindi come le etichette di tipo 1 ma sono ci servono per per esempio per confrontare due prodotti analoghi quindi se ho due prodotti per esempio devo acquistare degli autobus e ho due EPD posso andare a vedere nell'analisi del ciclo di vita sintetizzata all'interno di tabelle codificate posso andare a vedere se le emissioni di CO2 di tutto il ciclo di vita compreso quello quindi della fase di uso dell'autobus numero 1 dell'offerente numero 1 e dell'offerente numero 2 appunto se le emissioni di CO2 sono maggiori o inferiori dei quali quelle tra i due e così anche altri aspetti ambientali quindi lo utilizzo la utilizzo questa etichettatura per confrontare prodotti analoghi in fase di valutazione queste sono delle etichettature di tipo 3 degli EPD diciamo sia quella internazionale che è questo che vedete qui sulla destra l'APD da qualche anno c'è anche un ID Italy quindi un marchio italiano registrato che va a verificare attraverso sempre la procedura è sempre la stessa ma trovate nel sito degli EPD soprattutto prodotti ovviamente italiani mentre invece nel sito quello dell'EPD international che è questo www.environdeck.com trovate invece le EPD di tutto il mondo e quindi anche quelle italiane poi qua vedete anche delle EPD di altri paesi che difficilmente insomma vi potranno capitare però nel caso vi capitino questo tipo di etichettatura sappiate che esistono e quindi anche per queste vale sempre il principio di equivalenza questo è quello che trovate all'interno delle EPD delle dichiarazioni ambientali di prodotto cioè trovate tutti gli impatti potenziali ambientali di tutto il ciclo di vita queste diverse colonne sono le diverse fasi del ciclo di vita la fase di estrazione della materia prima la fase di produzione in questo caso la fase di uso e trovate tutti i valori i parametri ambientali global warming potenza cioè le emissioni di CO2 equivalenti in chilogrammi abbiamo visto che le EPD contengono dati di tipo quantitativo quindi chilogrammi di CO2 equivalente delle varie fasi e anche ovviamente la somma delle diverse fasi del ciclo di vita trovate un altro parametro ambientale che è quello della riduzione dello strato di ozono oppure della acidificazione potenziale delle acque l'eutrofizzazione delle acque e tutti gli altri parametri ambientali che sono quelli tipici dell'analisi del ciclo di vita poi trovate il consumo di risorse quindi trovate sempre un'altra tabella in queste EPD per questo sono le diverse i diversi prodotti sono confrontabili perché le tabelle sono sempre queste i valori e i parametri sono sempre gli stessi e quindi sono confrontabili i parametri dei vari prodotti analoghi in questo caso l'uso di risorse fa riferimento ai consumi di energia primaria rinnovabile ai consumi di energia primaria non rinnovabile all'uso di materiali riciclati quindi di materia prima seconda all'uso di combustibili derivanti da fonti rinnovabili da fonti non rinnovabili e poi anche il consumo di acqua quindi questo è il consumo di risorse sempre quantificato nelle fasi di estrazione della materia prima di produzione e di uso in questo caso poi ci sono anche il fine vita poi abbiamo la produzione di rifiuti quindi questa è la terza tabella che trovate nell'EPD con i chilogrammi nei vari sempre nelle varie fasi chilogrammi di rifiuti pericolosi i chilogrammi di rifiuti non pericolosi e anche i rifiuti radioattivi in qualche caso i flussi invece in uscita l'ultima tabella che trovate nell'EPD riguardano la composizione diciamo così dei materiali in uscita e che quindi possono naturalmente essere riutilizzati per esempio se ci sono dei sottoprodotti dei componenti per il riuso dei materiali che possono essere riciclati anche l'energia per esempio se un impianto produttivo viene alimentato da fotovolta se c'è energia aggiuntiva che non viene consumata per la produzione del prodotto quell'energia deve essere inclusa in questa ultima tabella quindi questo è sono tutti i dati che troviamo nelle EPD e che quindi ci aiutano a confrontare le performance ambientali dei diversi prodotti che dobbiamo selezionare l'articolo 105 invece è un articolo che contiene diversi elementi sui sempre siamo sempre nell'ambito della delle modalità di dimostrazione dei requisiti ambientali dei prodotti dei servizi e dei lavori quindi delle prove della dimostrazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali l'articolo 105 intanto ci dice che oltre alle etichettature ecologiche che abbiamo visto adesso che abbiamo visto poco fa ci sono altri due modalità per gli operatori economici di dimostrare che il prodotto il servizio il lavoro è conforme alle specifiche tecniche indicate della stazione appaltante sono la relazione o il rapporto di prova cioè le prove di laboratorio oppure un certificato rilasciato da organismi di valutazione della conformità gli organismi di valutazione della conformità attenzione perché sono solo quelli autorizzati da Credia a rilasciare questi certificati cioè sono organismi che diciamo lavorano sotto accreditamento a norma del regolamento 765 regolamento europeo del 765 del 2008 quindi questo questi due modalità adesso forse abbiamo qualche esempio oltre ai ai rapporti alle relazioni di prova dei laboratori e ai certificati di conformità che rilasciano gli organismi di valutazione autorizzati da Credia a farlo poi l'articolo 105 ammette anche un altro mezzo di prova che è la documentazione tecnica del fabbricante come abbiamo visto nel caso dell'edicatore quindi anche in questo caso se la stazione attente richiede un certificato o richiede una relazione di prova del laboratorio è l'operatore economico che deve dimostrare di non essere riuscito di non aver fatto in tempo ad ottenere i certificati o le relazioni di prova del laboratorio e quindi può allegare all'offerta una documentazione tecnica del fabbricante che però comprovi ovviamente la conformità alle specifiche tecniche del suo prodotto quindi ci sono ovviamente la documentazione tecnica deve essere adeguata cioè deve dimostrare proprio che il prodotto del servizio del lavoro è conforme alla specifica tecnica o alla clausola contrattuale o anche ai criteri premianti cioè i criteri di aggiudicazione quindi come vediamo qua per riepilogare i mezzi di prova abbiamo le etichettature come mezzo di prova oppure la documentazione tecnica del fabbricante se l'operatore non è riuscito ad ottenere l'etichettatura le certificazioni di valutazione della conformità rilasciate dagli organismi di valutazione della conformità le relazioni di prova o rapporti di prova anche questi rilasciati dai laboratori accreditati sempre da credia oppure altri di mezzi di prova appropriati come appunto la documentazione tecnica del fabbricante questo è un esempio di certificato di valutazione della conformità quindi un certificato rilasciato da un organismo e lo vediamo qua il TUV in questo caso un organismo di valutazione accreditato la norma tecnica rispetto alla quale l'organismo ha rilasciato il certificato accredia quindi il marchio accredia che con i numeri di registrazione dell'organismo di valutazione della conformità che ci assicura che quell'organismo ha rilasciato questo certificato essendo autorizzato a farlo da accredia e poi abbiamo anche ovviamente qui la data di scadenza la data di emissione la data di scadenza dei certificati che appunto come dicevamo prima per le etichettature scadono quindi per i certificati e per le etichettature dobbiamo andare a verificare se è ancora valido il documento questo invece per quanto riguarda i rapporti di prova di laboratorio dobbiamo sapere che i rapporti di prova devono essere scritti dal laboratorio di prova accreditato in un modo ben specifico e cioè secondo questa norma 17.025 in particolare il punto 510 stabilisce in che modo vanno scritti i rapporti di prova del laboratorio cioè deve esserci il marchio accredia deve essere identificato in modo univo con il campione con il numero di accertazione la data e così via le caratteristiche del campione l'identificazione del cliente il metodo di prova utilizzato la data di inizio e fine prova e tutta un'altra serie di elementi che è obbligatorio che ci sia un rapporto di prova altrimenti la stazione appaltante non lo può accettare come mezzo di prova questo è un esempio vedete che c'è il marchio accredia c'è il numero di registrazione diciamo del rapporto di prova il committente in questo caso tutti gli elementi che stabiliscono appunto il campione quando è stato preso quando è stato accettato e così via la data di inizio delle prove e la data del termine delle prove di laboratorio e così via e poi naturalmente il risultato finale questo ci serve perché in tantissimi CAM ci sono delle prove di laboratorio che occorre che l'operatore economico deve il produttore di diversi prodotti deve garantire deve fare per dimostrare che alcuni e alcune sostanze in particolare nei CAM ci sono queste prove di laboratorio richieste per stabilire se alcune sostanze chimiche pericolose sono contenute nel prodotto o vengono emesse dal prodotto al di sotto di una certa soglia quindi queste prove di laboratorio sono moltissime all'interno dei CAM o per quanto invece riguarda l'ultima cosa la documentazione tecnica del fabbricante qualora vi arrivino appunto delle documentazioni tecniche per la dimostrazione della conformità del prodotto del servizio del lavoro alla specifica tecnica o la clausola contrattuale che avete individuato che avete indicato all'interno dei documenti di gara è necessario questo complica un po' la fase di valutazione della conformità del prodotto perché ovviamente una documentazione tecnica del fabbricante è un documento tecnico all'interno del quale sono illustrati i processi produttivi i materiali utilizzati il contenuto di riciclato dei prodotti e così via quindi è bene nella documentazione di gara ogni volta diciamo che sia necessario indicare e specificare bene quali devono essere i contenuti minimi della documentazione tecnica del fabbricante qualora appunto il proponente dimostri l'offerente dimostri di non essere riuscito ad ottenere in tempo l'etichettatura oppure il certificato oppure la relazione di prova del laboratorio quindi questo per esempio nel caso della cam carta ve lo indica lo stesso cam come richiedere un contenuto minimo della documentazione tecnica del fabbricante per esempio vi dice il cam carta non lo trovate sempre però in alcuni casi lo dovete definire voi nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul contenuto di riciclato la documentazione tecnica da presentare deve specificare la qualità di carta da macero impiegata in base alla classificazione della norma uni 643 le relative quantità espresse in percentuale di fibra da macero utilizzata per produrre una tonnellata essiccata all'aria eccetera eccetera quindi già nel documento di gara dovete indicare nel caso in cui il produttore non abbia l'eticottatura non abbia il certificato e così via in che modo dovrà illustrare le caratteristiche del prodotto per dimostrare che non è conforme alle specifiche tecniche contenuti minimi di documentazione tecnica del fabbricante sempre sperando che poi non arrivino documentazioni tecniche perché comunque ci vuole un po' di tempo per esaminarle veniamo alle articoli all'articolo invece le garanzie per la procedura quindi quali sono le riduzioni che si possono ottenere che gli operatori economici possono ottenere siamo nell'articolo 106 del codice che possono ottenere grazie ad alcune certificazioni per esempio i provitali ma vediamo dall'inizio l'articolo intanto la garanzia provvisoria è pari al 2% del valore complessivo questo importo della garanzia è però ridotto del 30% nel caso in cui l'operatore economico ha una certificazione del sistema di qualità conforme alla norma ISO 9000 può ottenere l'operatore economico però non è cumulabile con la ISO 9000 una riduzione del 50% quindi o l'una o l'altra se l'operatore economico rientra nella categoria delle micro piccole e medie imprese quindi o anche di raggruppamenti tra piccole e micro piccole e medie imprese quindi una riduzione del 50% delle garanzie e infine l'importo della garanzia è ridotto e questa volta è cumulabile con le precedenti ancora di un ulteriore 20% nel caso in cui l'operatore economico abbia una o più delle certificazioni che adesso andiamo a vedere e molte delle quali riguardano proprio aspetti di tipo ambientale e sociale questi sono adesso quattro slide dove abbiamo riportato le tabelle che trovate nel codice quindi per esempio la SA8000 che è una certificazione sugli aspetti sociali di gestione sociale dell'azienda ISO 50001 sistemi di gestione dell'energia sistemi di strezza delle informazioni sistemi di gestione ambientale quella che più nota che è l'ISO 14001 ma anche l'EMAS che è l'analoga registrazione invece di tipo europeo la ISO 9001 appunto sulla qualità la ISO 45001 su salute e sicurezza nel lavoro e così via trovate tutte le varie l'elenco di tutte le certificazioni che possono ottenere quello sconto del 50% che abbiamo visto prima vediamo infine come rubo solo 5 minuti in che modo il codice quali sono i criteri per selezionare le offerte abbiamo nell'articolo 105 naturalmente intanto un comma il comma 2 che stabilisce che la stazione appaltante non deve necessariamente aggiudicare l'appalto nel caso in cui l'offerta nessuna delle offerte soddisfa gli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro quindi può decidere di non aggiudicare l'appalto se nessuna delle offerte conforme a questi aspetti poi l'articolo 1001 invece stabilisce che la giudicazione deve quasi diciamo avvenire secondo l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa questo nel primo comma dell'articolo 108 i criteri che si devono utilizzare sono per l'offerta economicamente più vantaggiosa o il miglior rapporto qualità prezzo oppure anche soltanto sull'aspetto del prezzo e del costo ma in questo caso quindi considerando gli aspetti tecnici le prestazioni del prodotto del servizio del lavoro ma soltanto sull'elemento prezzo o costo ma in questo caso però non soltanto del prezzo in sé ma del costo efficace della comparazione costo efficace come per esempio il costo del ciclo di vita che poi andrà a definire nell'articolo successivo quindi l'offerta economicamente più vantaggiosa si può basare sul miglior rapporto qualità prezzo quindi qualità aspetti funzionali aspetti tecnici aspetti ambientali e così via e il rapporto anche con il prezzo oppure soltanto sul prezzo ma qualora ci riferiamo soltanto al prezzo dobbiamo sempre tenere conto del costo lungo tutto il ciclo di vita del prodotto del servizio che andiamo ad appaltare come forse già sapete il minor prezzo invece per quanto riguarda i servizi e le forniture utilizzate soltanto per servizi e forniture che abbiano caratteristiche standardizzate quindi soltanto in alcuni casi possono essere utilizzati con eccezione peraltro per i servizi che sono di manodopera e poi qui nel comma 2 vediamo anche quali sono gli appalti che possono essere aggiudicati esclusivamente con l'offerta economicamente più vantaggiosa in particolare con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo sono i servizi sociali di ristorazione ospedaliera assistenziale scolastica quindi qui abbiamo il nostro cam ristorazione e così via i contratti per l'affidamento di servizi di ingegneria architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro per quanto riguarda servizi e forniture di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo devono essere appaltati esclusivamente con il criterio del rapporto qualità prezzo sopra i 140.000 euro mentre invece la stessa cosa cioè i lavori con notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo non c'è una soglia di riferimento quindi sempre con il miglior rapporto qualità prezzo nel caso dei lavori di notevole contenuto tecnologico poi vediamo ancora gli affidamenti nel caso di dialogo competitivo di partenariato per l'innovazione e nell'appalto integrato anche in questo caso dobbiamo sempre utilizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa e il miglior rapporto qualità prezzo per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione nel caso del appunto miglior rapporto qualità prezzo sono dei criteri che devono essere oggettivi possono essere sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo possono riguardare aspetti ambientali o anche aspetti sociali e soprattutto devono essere strettamente connessi all'oggetto dell'appalto pur tenendo di processi lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti dei servizi e dei lavori quindi nel caso in cui viene utilizzato il miglior rapporto qualità prezzo inoltre la stazione appaltante può anche decidere che la parte del prezzo può rimanere fissa e di far diciamo confrontare i diversi operatori economici soltanto sulla qualità quindi sul lato delle prestazioni tecniche delle prestazioni ambientali quindi si può fissare un prezzo minimo dell'appalto e far concorrere diciamo così con gli operatori economici sugli aspetti di tipo tecnico e di tipo ambientale ancora sempre per quanto riguarda l'offerta economicamente più vantaggiosa i criteri di aggiudicazione ovviamente sono l'abbiamo già anticipato sono considerati connessi all'appalto anche se riguardano una qualsiasi fase proprio del ciclo di vita dell'appalto stesso quindi dei servizi delle forniture e dei lavori uno dei criteri oggettivi come abbiamo visto che si possono utilizzare sia col criterio della qualità prezzo ma anche nel caso in cui utilizziamo il costo del ciclo di vita quando diciamo l'offerta economicamente più vantaggiosa la basiamo sul criterio solo del prezzo e del costo appunto un criterio è quello del costo di ciclo di vita l'ultimo articolo che andiamo a vedere il comma 3 ci dice in che modo deve essere definito il costo del ciclo di vita le stazioni appaltanti devono fornire in eventi di gara il metodo che sarà impiegato per confrontare le diverse offerte dal punto di vista dei costi del ciclo di vita e quindi devono chiedere delle informazioni chiare e ben precise agli operatori economici i dati quindi che devono richiedere sono i costi relativi all'acquisizione del prodotto per esempio o del servizio i costi connessi all'utilizzo per esempio il consumo di energia e altre risorse nella fase di uso di quel prodotto i costi necessari per la manutenzione del prodotto lungo la fase di uso i costi relativi anche al fine vita quindi i costi di smaltimento di riciclaggio del prodotto quando arriva alla conclusione della sua vita utile e infine l'ultima parte che è molto importante i costi legati a esternalità ambientale a impatti ambientali che tutto il ciclo di vita di quel prodotto soprattutto nella fase di uso può produrre può generare per quanto riguarda le esternalità ambientali quali sono queste esternalità sono appunto per esempio le emissioni di gas effetto serra o altre sostanze inquinanti o altri tipi di impatti generazione di rifiuti ad esempio quindi le stazioni appaltanti per quanto riguarda la parte delle esternalità ambientali devono richiedere agli operatori economici delle informazioni che devono basarsi su criteri oggettivi verificabili verificabili e non discriminatori poi devono se possibili fare riferimento ecco qua fare riferimento a dei metodi comuni a dei metodi per esempio di calcolo dei costi del di vita delle esternalità ambientali che sono stabilite per esempio all'interno di un regolamento o di una direttiva europea ne è un esempio per la direttiva per esempio la 30 del 2009 che riguarda i veicoli puliti adibiti al trasporto su strada dove all'interno trovate una tabella che si riferisce proprio all'esternalità ambientale di questi veicoli che devono e quindi sono monetizzati queste esternalità ambientali proprio dalla stessa direttiva cioè la stessa direttiva ci dice che i costi esterni cioè le esternalità ambientali delle emissioni nel trasporto su strada sono questo poi aggiornato sono di CO2 questi costi di esternalità vanno da 0,03 a 0,04 euro a chilogrammi di emissioni di CO2 oppure di NOx 0,0044 particolato e così via quindi è la stessa direttiva che ha monetizzato le esternalità ambientali quindi possiamo richiedere in caso in cui dovessimo acquistare veicoli possiamo diciamo effettuare l'analisi del costo del ciclo di vita per quanto riguarda le esternalità ambientali basandoci su questi costi già definiti da una norma da una direttiva in questo caso europea per l'analisi del ciclo dei costi da utilizzare nelle procedure di gara trovate molti esempi di life cycle costing quindi sostanzialmente sono degli excel trovate qui abbiamo messo il link per la determinazione dei costi del ciclo di vita riguarda tutto riguarda sia la fase di acquisizione del prodotto di manutenzione di consumo di risorse di energia nella fase di uso e così via lo trovate per tutta una serie questi sono dei tool che ha prodotto la commissione lo trovate per tutta una serie di categorie di prodotti o di servizi questa era l'ultima slide vi ringrazio scusate mi si ho fatto eccoci sì dottoressa vocino grazie siamo un po' fuori tempo massimo però abbiamo un po' di domande direi utilizziamo questi ultimissimi minuti per rispondere a qualcuna e il resto le lasciamo a domani benissimo riesce a vedere il box delle domande sì sì l'ho aperto l'ho aperto allora i criteri premianti devono essere obbligatoriamente inseriti nei documenti di gara in caso di risposta positiva i criteri premianti devono essere scelti necessariamente tra quelli indicati dal CAM allora i documenti come ho detto i criteri premianti sono devono essere tenuti in considerazione dalle stazioni appaltanti dice il codice nei CAM trovate per esempio 7 8 10 criteri premianti li scegliete ne scegliete 1 2 o più come ho detto prima a seconda delle esigenze che avete dal punto di vista ambientale quindi la scelta dei criteri premianti non deve essere casuale deve riguardare aspetti ambientali molto importanti per la stazione appaltante per esempio se ci troviamo in una zona con problemi di con problemi idrici per esempio allora possono essere scelti per esempio criteri premianti faccio un esempio qualsiasi che riguardano per esempio i consumi idrici dei prodotti ecco quindi il risparmio idrico riguardano il risparmio idrico quindi devono essere selezioni sono obbligatorie nel senso che se ne devono scegliere alcuni tra quelli proposti dai criteri ambientali minimi del ministero ambiente e la seconda domanda no non devono necessariamente essere soltanto quelli dei CAM se avete dei criteri premianti ma anche dei criteri obbligatori l'ho detto prima perché possono esserci specifiche tecniche e clausole contrattuali in più che potete definire voi che può definire la stazione appaltante quindi anche per i criteri premianti vale la stessa cosa sarebbe possibile vedere qualche esempio di caratteristica tecnica inserita in qualche bando ma più che inserita in qualche bando lo potete semplicemente vedere all'interno dei CAM perché tutti i CAM contengono specifiche tecniche cioè caratteristiche tecniche come le chiama la nostra collega perché sostanzialmente poi nei bandi di CAM si fa riferimento direttamente alle specifiche tecniche del CAM stesso ricordo che le specifiche tecniche sono invece e le clausole contrattuali sono obbligatorie a differenza dei criteri premianti quindi potete facilmente poi domani vedremo tantissimi esempi di CAM quindi li vedremo anche domani queste specifiche tecniche poi quali materiali devono avere la certificazione CAM allora sfatiamo un mito non esiste la certificazione CAM non esiste tutte le certificazioni CAM che ci sono sono false perché sono rilasciato perché non c'è un una procedura di accredia che accredita che autorizza degli organismi di valutazione della conformità a rilasciare una cosiddetta certificazione CAM non esiste esistono le etichettature ecologiche i certificati di valutazione della conformità rilasciati da un organismo di valutazione accreditato questi certificati riguardano alcune specifiche tecniche in particolare non riguardano tutto l'intero prodotto potranno riguardare per esempio il contenuto di riciclato del prodotto potranno riguardare il contenuto di sostanze chimiche pericolose ma non l'intero prodotto quindi se per un tipo di prodotto mettiamo per un arredo ci sono cinque specifiche tecniche obbligatorie il certificato rilasciato da organismo di valutazione conformità devono esserci cinque certificati per quelle caratteristiche quando si parla erroneamente di certificazione CAM è come se ci fosse una certificazione onnicomprensiva di tutte di quelle cinque specifiche tecniche indicate dal CAM arredi per esempio ma non esiste a credia finora non ha autorizzato nessuno a rilasciare una certificazione di questo tipo onnicomprensiva di tutti i requisiti quindi non fidatevi di queste certificazioni che arrivano le uniche diciamo così certificazioni onnicomprensive sono le etichettature ambientali di tipo primo l'ecolabel è onnicomprensivo quindi se c'è un'etichettatura di un arredo ecolabel vuol dire che quell'arredo risponde a tutti i requisiti ambientali indicati nell'ecolabel e quindi in questo caso è come fosse una certificazione appunto di tutti i requisiti ambientali di tutto il prodotto Chiara fermami quando mi devo fermare non so quanto posso andare avanti finiamo alle 11.50 altri tre minuti ok come si dimostra il rispetto dei CAM quale verifica del possesso e della validità di certificazioni specifiche richieste dal CAM questo magari sono state fatte quando ancora non avevo non ero arrivata a quel punto però abbiamo detto che il rispetto dei CAM si dimostra con le etichettature ai marchi ambientali in particolare etichettature di tipo primo e di tipo terzo pian piano le etichettature di tipo secondo cioè le autodichiarazioni del produttore sono abbandonate dai CAM secondo modo sono le relazioni di prova del laboratorio terzo modo le certificazioni di conformità come dicevo prima per specifiche tecniche puntuali rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati da Credia sono questi soli tre che dimostrano il rispetto dei CAM l'ultimo il quattro è la documentazione tecnica del fabbricante che come abbiamo visto può essere accettata soltanto qualora l'operatore economico dimostri di non essere riuscito ad ottenere le etichettature se avete richiesto le etichettature o meglio se il CAM richiede le etichettature o gli altri due mezzi di prova certificati di conformità o rapporti di prova di laboratorio basta non ci sono altri mezzi categorie diciamo così per di mezzi di prova per dimostrare il rispetto di CAM e lo dice non lo dicono i CAM lo dice naturalmente i codici quale verifica del possesso e della validità di certificazioni specifiche richieste dal CAM sul prodotto oggetto di gara e l'abbiamo detto queste sono le verifiche la validità delle certificazioni è stabilita dal certificato stesso dal rapporto di prova di laboratorio perché c'è una data di scadenza di questi certificati così come delle etichettature non valgono per sempre e oltretutto per esempio le etichettature se il produttore cambia un solo elemento del processo produttivo cambia una materia prima cambia per esempio l'energia che utilizza per il processo produttivo deve farsi convalidare nuovamente le etichettature quindi pure le etichettature e i marchi ambientali scadono poi quando sono obbligatori criteri ambientali minimi sempre per gli appalti pubblici i criteri ambientali minimi sono sempre obbligatori naturalmente quelli che entrano quelli pubblicati dal ministero dell'ambiente poi chiedo una specifica se i criteri ambientali minimi sono obbligatori per tutti gli affidamenti che rientrano nel loro ambito di applicazione indipendentemente dall'importo l'abbiamo detto indipendentemente quindi anche per gli affidamenti sotto soglia o diretti sono sempre obbligatorie le specifiche tecniche e le clausole contrattuali se c'è un affidamento diretto non ci sarà un confronto concorrenziale tra operatori è un affidamento diretto quindi i criteri premianti non entrano in gioco in questo caso ma verranno affidati in modo diretto ma il prodotto servizio lavori devono sempre essere conformi a specifiche tecniche e clausole contrattuali perfetto dottoressa direi che possiamo fermarci qui lasciamo a domani le ultime le ultime risposte tanto avremo modo sicuramente benissimo e io ringrazio tutti voi ringrazio i docenti tantissimo e vi do appuntamento domani mattina alla stessa ora grazie buona giornata grazie a tutti a domani arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti a domani